Forse intuirete che io non sono né Francesca Paradisi né Paola Cortese né Cinzia Conti, vi verrà questo sospetto. Io sono Giovanni Barbieri, iniziamo questa nuova sessione della palestra della conoscenza, l'area della conferenza dedicata alle esperienze di sviluppo della cultura statistica, organizzata in collaborazione con la società italiana di statistica, prima avevo visto Monica Pratesi, è presente ed è sullo sfondo. Come siamo organizzati? In realtà voi vedete scritto che la statistica a scuola e l'università ha uno spazio di due ore, dalle 14 alle 16, sono già le 14 e 15, però in realtà poi se guardate sul vostro programma c'è una cosa che si chiama la scuola di Atene. La scuola di Atene è un modo fantasioso di dire che avevamo pensato con Monica che al termine delle presentazioni ci fosse uno spazio non strutturato di dibattito in cui potevate discutere con noi, con me, con Monica e con i relatori, in particolare con i relatori, aspetti che magari erano un pochino più trasversali, di cui non siamo riusciti a parlare durante le presentazioni vere e proprie. Abbiamo la presentazione di tre esperienze, sono esperienze che sono state condotte nel corso dell'anno scorso, l'anno scorso è stato, diciamo, nel 12 mesi precedenti, mettiamola così, che sono stati per l'Istat il rilancio strutturato delle attività attinenti alla cultura statistica, è stata costituita una nuova direzione, questa nuova direzione che ho l'onore temporaneamente di coordinare si chiama per lo sviluppo dell'informazione e della cultura statistica, quindi sviluppo, non promozione, per me questo è molto importante, e con l'occasione abbiamo anche ricostituito una rete territoriale di sviluppo della cultura statistica, per cui per esempio stamattina abbiamo presentato delle esperienze che nascevano, diciamo così, dal territorio, oggi pomeriggio presentiamo esperienze invece che nascono da uno stimolo centrale, in particolare ne presentiamo tre che hanno la particolarità di essere rivolte a fasce d'età diverse, la prima che presenteremo è l'attività che abbiamo svolto in collaborazione sempre con la Società Italiana di Statistica e con l'UNICEF per la giornata italiana ed europea della statistica il 20 ottobre scorso, non vi anticipo niente, ve ne parleranno Cinzia Conti e Chiara Ricci, non so in quale ordine. La seconda esperienza è un'esperienza pilota in corso che, anzi ho appena concluso, che prelude a un'attività più continua nel corso del prossimo anno scolastico, fatta con gli studenti delle superiori nell'ambito di un progetto scuola digitale e cittadinanza statistica, potete mescolare i due aggettivi e i due sostantivi come volete, e la terza invece è un'esperienza che ha a che fare con l'università, in realtà è un aggiornamento, una riproposizione di un'esperienza che era stata fatta negli Atenei Toscani qualche anno fa e che ora è stata aggiornata, quindi abbiamo, credo, anche la possibilità di svolgere un confronto storico. Non rubo alto tempo, do la parola a questo punto, ho capito che parla prima Chiara. No? Andate insieme, va bene, ok. Allora, dato che ci sono due sedie, io mi metto tra il pubblico. No, 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 avrò l'accortezza di fare così con la mano quando secondo me... Ma noi saremo rapida, è assolutamente rapida. Ok. È già acceso, sì. Buongiorno a tutti, mi presento. Anche se Verbiari ha già accennato qualcosa, io sono Chiara Ricci, sono la responsabile dell'area volontari e programmi del Comitato Italiano per l'UNICEF, gestisco la rete dei nostri volontari, che sono oltre 4.800. Di questi gran parte sono UNICEF, Young for UNICEF, cioè sono i giovani volontari, qui vicino a me ci sta la responsabile nazionale del programma UNICEF, che è Renata Corone, ci sono una degna rappresentatività dei ragazzi che con Cinzia, con noi, con Istat, hanno lavorato alla giornata nazionale e internazionale della statistica del 20 ottobre scorso, come anticipava Barbieri. È stata, parlo per me, una chiamata assolutamente inaspettata. Conosco l'Istat dai miei studi e la pensavo una torre inavvicinabile, invalicabile, un croggiolo di numeri, di dati e di persone che facevano quello dalla mattina alla sera. Quando siamo state chiamate ho trovato delle persone meravigliose, aperte al confronto, curiose e volenterose di vedere la partecipazione di tutti gli individui ai numeri. Ho studiato ragioneria, per cui immaginate quanto per me sia, come dire, una deviazione mentale quella di provare a pensare al lavoro che faccio io, che è un lavoro di advocacy, di motivazione, di rispetto delle regole e di coinvolgimento, di passione, di cuore, di analisi, metterlo sul tavolo, in realtà con i numeri. C'è un legame importante. Di tutta questa meraviglia che vi ho raccontato, ci sono due artefici che mi sento di ringraziare. Uno è Cinzia. Cinzia, ci siamo piaciute subito, è una questione di carattere, no? Ti ritrovi con le persone, ti guardi e dici ci piacciamo. La seconda è Federica Gugliari, che è la mia collega che si è occupata fin dall'inizio di questa relazione con Istat. E poi ci sono tante persone. Barbieri è uno di questi, ma c'è, ricordami, la dottoressa Buratta che è arrivata. Eccola qua. E dai, faceva un'entrata più triunfale ancora. Con la quale ci siamo anche con lei. Immediatamente è nato un feeling, una voglia di stare insieme, di collaborare. Io sono molto orgogliosa. L'Unicef è a fianco dell'Istat. Questa è una cosa che non era mai successa da un punto di vista Unicef. Credo che sia una cosa rara, correggetemi se sbaglio, che l'Istat, come dire, promuova le sue attività con altri loghi che non siano solo quello dell'Istat. E questo per me, per il Presidente, il Direttore, per l'Unicef Italia è un motivo di grande orgoglio. Laddove poi ci mettiamo la voglia di partecipazione e di confronto dei giovani, l'Unicef è questo. Questo era il preambolo per spiegarvi con quale entusiasmo e quale voglia di proseguire questo percorso che così è iniziato stiamo lavorando. Ci interessa valorizzare il contributo che i ragazzi possono dare nel processo di elaborazione dei progetti, quali soggetti portatori di idee e innovazioni preziose per comprendere una realtà sociale che è sempre il rapido mutamento. La collaborazione, come vi dicevo, nasce su una indagine nazionale dei ragazzi che è prevista per il 2019, di cui credo che Cinzia più avanti vi racconterà, nello specifico, ci ha permesso di incontrarci e di lavorare sulla diffusione della conoscenza e sulla sensibilizzazione all'utilità della ricerca attraverso un approccio che rendesse i ragazzi protagonisti stessi delle attività. L'Unicef, come sapete, in tutto il mondo collabora con gli istituti nazionali di ricerca ed è impegnato in prima linea nello sviluppo e nel potenziamento di sistemi di rilevazione statistica. Attraverso l'esperienza maturata nei progetti sul campo Unicef lavora in 193 paesi nel mondo abbiamo sperimentato che i problemi e le questioni che non vengono misurate non vengono neanche risolte perché non se ne conosce il problema. Riteniamo che dati coerenti e affidabili sulla situazione dei bambini e degli adolescenti siano indispensabili per migliorare le condizioni di vita e indispensabili per dare attuazione ai diritti di ogni bambino. I dati sono fondamentali nella nostra azione di advocacy. Noi lavoriamo a favore di 2 miliardi di minorenni nel mondo perché questa situazione ci permette di lavorare con i governi sull'importanza di partire da dati di base per elaborare politiche e realizzare azioni che garantiscano la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e della scienza. Vedete che c'è sempre una parola dato perché deve inevitabilmente ricorrere e l'impegno dell'Unicef è volto a questo. Voi lo sapete noi ogni anno facciamo un rapporto sulla condizione dei bambini nel mondo. Io quando vedevo le tabelle le prime volte sono 33 anni che lavoro al Comitato Italiano ero atterrita cioè le curve, i diagrammi, i numeri in realtà poi diventa tutto facile perché è l'espressione di un problema con dati e numeri statistici. L'impegno che noi abbiamo è quello anche di contribuire, di individuare nuovi modi di raccogliere e utilizzare dati che aiuteranno a programmare investimenti e politiche di interventi mirati e raggiungere più bambini possibile che sono in situazione vulnerabile. I dati di per sé non cambiano il mondo ma rendono possibile il cambiamento perché permettono di identificare i bisogni sostenere le azioni di advocacy e valutare i progressi raggiunti. Proprio per questo riteniamo fondamentale questa collaborazione con Istat in particolare questo progetto realizzato in collaborazione anche con il MIUR e la Società Italiana di Statistica abbiamo coinvolto le scuole secondarie di primo grado. L'approccio con cui abbiamo lavorato insieme a Istat è stato quello di riconoscere come presupposto i ragazzi come veri protagonisti. Il contributo che cerchiamo sempre di portare alle collaborazioni con enti e altre organizzazioni è il lavoro prezioso che si può fare riconoscendo ai ragazzi la capacità di contribuire nei processi decisionali come anche nel caso della progettazione di un'indagine. L'ascolto e la partecipazione dei ragazzi tra i principi cardine della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'oddoscenza ci hanno permesso di coinvolgere le ragazze e i ragazzi delle scuole attraverso incontri e consultazioni in cui i ragazzi sono stati protagonisti nel suggerire punti di vista innovativi che ci hanno permesso di cogliere aspetti che noi adulti da soli probabilmente non avremmo potuto cogliere. Abbiamo riscontrato nel lavoro dei ragazzi un interesse e una curiosità per quelle che possono essere le ricchezze dell'informazione statistica. Io ero spaventata, ho fatto economia e commercio la statistica per me era un incubo, non ne capivo. Non è così lontano che non è un'informazione. È vero, però per me era sempre una fatica l'analisi. Invece adesso, lavorando anche con l'esperienza loro mi sono resa conto che poi in realtà c'è un po' del lavoro nostro di tutti i giorni questa attenzione. Interesse e curiosità per quelle che possono essere le ricchezze dell'informazione. La curiosità di conoscere i dati di essere in grado così di interpretare i fenomeni i numeri corrispondono a delle situazioni a dei fenomeni. L'interesse dei ragazzi che hanno scoperto il valore dei dati, quali valido strumento di analisi per guardare, analizzare e comprendere i fatti. Mi avvio verso la fine, se una barbiara mi faccio la mano così. Il ruolo fondamentale del 20 ottobre nelle nostre classi lo hanno avuto proprio i ragazzi volontari di Unicef, del gruppo Unicef che ringrazio nuovamente, di cui qui c'è la delegazione come vi dicevo prima. Loro stessi poi vi racconteranno in che cosa è consistito il loro lavoro. Il ruolo di facilitatori è stato certamente essenziale. Infatti nei processi di partecipazione dei bambini e dei ragazzi il ruolo di facilitazione che possono svolgere altri giovani peer-to-peer è fondamentale per chi aiuta ad usare linguaggi e modalità che permettono ai più piccoli di sentirsi a proprio agio nell'esprimere il proprio punto di vista. È importante infatti che il processo di partecipazione sia rispettoso dei bambini e permetta loro di sentirsi a proprio agio così come la partecipazione è necessario che sia trasparente e informata volontaria, rilevante quindi opinioni su questioni che loro stessi reputano importanti facilitata, inclusiva supportata dalla formazione degli adulti responsabile. Tra l'altro i ragazzi stessi di Unicef sono stati a loro volta coinvolti nelle consultazioni al fine di raccogliere le loro riflessioni sulla progettazione dell'indagine. Vedete il cerchio che si chiude, no? Tutti lavorano verso un unico obiettivo. Il 20 ottobre sono stati coinvolti 13 classi di 10 istituti diversi in 10 città diverse Napoli, Milano, Torino, Venezia, Palermo, Cagliari, Roma, Ascoli Piceno e Prato. In ogni classe presente per la facilitazione rappresenta almeno un giovane volontario Unicef almeno un ricercatore Istat e una persona di staff Unicef. Sono stati coinvolti 250 studenti che è un importante numero visto che parliamo di numeri. Le scuole coinvolte sono state della rete nazionale delle scuole che aderiscono al programma Unicef Scuola Amica dei Bambini e degli Adolescenti un programma di educazione ai diritti che immagino che molti di voi conoscono in cui siamo impegnati in numerose scuole d'Italia. Il progetto ha visto coinvolti anche gli insegnanti che prima del 20 ottobre hanno partecipato all'attività di formazione e informazione sul progetto. Io direi se la leggia ci aiuta che ci terremo a farvi vedere un piccolo supporto video di quello che è successo per la realizzazione di questo progetto. Oggi insieme alla scuola Unicef e l'Istat abbiamo parlato della diversità tra di noi dei diversi abbigliamenti dei tatti somatici disabilità fisiche o mentali le religioni, le lingue sul lavoro gli immigrati dove abiti la nazionalità la vita quotidiana ma soprattutto sulle varie culture La giornata della statistica italiana ed europea del 20 ottobre sarà l'occasione per coinvolgere e dialogare con i giovanissimi cittadini di domande li coinvolgeremo direttamente nella progettazione di un'indagine che li riguarda proprio per individuare le domande gli interessi il loro futuro I ragazzi oggetto e soggetti della produzione dei dati statistici e anche della loro prima analisi Mi è sembrata una giornata istruttiva abbiamo imparato tante cose imparare a rispettare la diversità e a comprendere che non è sempre una cosa negativa La partecipazione e l'ascolto sono principi cardine nella nostra azione per coinvolgere i ragazzi e soprattutto per applicare quelli che sono i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza così come indicate dalla Convenzione Questa iniziativa che realizziamo in collaborazione con l'Istat non ha proprio nel senso di dare un protagonismo ai giornali I numeri contano ed è importante questo perché ogni bambino conta non dobbiamo mai dimenticarlo Io passo la parola a Cinzia e grazie veramente Vittoria per la carta bianca che ci hai dato ed è stato un inizio prezioso ringrazio Barbieri che ci ha accolto anche lui nel suo ufficio a braccia aperte quando ancora cercavamo di mettere insieme qualche pezzo e consentitemi un ringraziamento particolare a Cinzia perché ha ci ha supportato a 360 gradi su qualsiasi cosa e soprattutto quando si uniscono due organizzazioni grandi come Unicef e come Istat anzi prima come Istat e poi come Unicef bisogna tenere insieme tanti equilibri e Cinzia l'ho saputo fare nel migliore dei modi grazie di cuore io non ringrazio Chiara perché se no in realtà voglio dire una cosa però rispetto ai ringraziamenti che Chiara ha fatto Cinzia sei molto divertita perché devo dire che la collaborazione con Unicef e il contatto con i ragazzi è davvero molto stimolante e riesce nonostante a volte ci siano momenti di fatica tensione stress specie quando si lavora con tempi molto stretti però davvero alla fine c'è un senso di soddisfazione di aver imparato di aver fatto un percorso con loro che ti ripaga quindi grazie per quello che poi alla fine è tornato indietro e grazie insomma davvero ai ragazzi sono pochi qui oggi insomma adesso poi spieghiamo come funziona meglio questo discorso della collaborazione che si è avviata e del protagonismo dei ragazzi che vogliamo sostenere anche per l'indagine che verrà diciamo che l'occasione della giornata della statistica si è collocata nell'ambito di un'idea che già avevamo maturato insieme ad Unicef noi stavamo riprogettando l'indagine che è stata fatta nel 2015 da Istat sulle seconde generazioni e l'avevamo già immaginata come un'indagine più ampia che si rivolgesse non più soltanto ai ragazzi con background migratorio ma a tutti i giovanissimi quindi agli studenti delle scuole secondarie sia con background migratorio sia italiani nati in Italia e questo diciamo ci ha portato a fare tutta una serie di riflessioni sulla strumentazione che avevamo a disposizione per rimmaginarci un percorso di questo tipo in realtà la sensazione che avevamo e poi è stata confermata dai fatti è che innanzitutto c'era un problema di linguaggio un problema di come proporre ai ragazzi alcune tematiche che avevamo chiare però Chiara ha anche detto un'altra cosa cioè noi avevamo anche proprio bisogno da parte dei ragazzi del suggerimento dei temi in realtà ragionando sull'indagine che avevamo svolto nel 2015 ci siamo resi conto che ragionare solo parlando di seconde generazioni non era più sufficiente in realtà quello che doveva essere affrontato era il tema delle nuove generazioni in senso ampio di cui le seconde generazioni sono una parte ma in realtà ci siamo resi conto del cambiamento sociale che attraversava la società e che riguardava in maniera forte i giovanissimi riguardava sia i ragazzi figli di italiani sia i ragazzi figli di stranieri forse sì ci sono delle specifiche magari gli stranieri rappresentano delle punte avanzate rispetto a certi fenomeni ma il cambiamento era generale c'era questo discorso che il Miurra ha richiamato recentemente parlando di nativi digitali nativi interculturali rispetto a queste generazioni ecco è un cambiamento sociale che sta attraversando le nuove generazioni in maniera totale generalizzata quindi ci siamo avvicinati al tema dei social media che ha trasformato le relazioni ci siamo avvicinati al tema dell'intercultura della cittadinanza dell'identità e dell'appartenenza che sì è vero riguarda moltissimo i ragazzi con background migratorio ma riguarda anche i ragazzi che un background migratorio non ce l'hanno perché poi ci sono qui vedo le facce dei ragazzi di UNICEF che ormai conosco e in realtà nei focus group che noi abbiamo fatto con loro viene fuori che anche chi non ha in classe ragazzi stranieri quotidianamente è in contatto con ragazzi che vivono in altri paesi perché si contattano attraverso i social media perché qualcuno gioca online e gioca con coetanei che vivono in un altro paese quindi in realtà al di là dell'immigrazione questo senso di appartenenza globale per i ragazzini delle scuole superiori è molto forte quindi questi sono soltanto alcuni esempi era una riflessione che noi stavamo muovendo abbiamo incontrato nel nostro percorso UNICEF un po' le relazioni personali un po' il fatto che comunque in certi tavoli in certe occasioni ci siamo ritrovati più volte a discutere a parlare insieme ed è nata l'idea di coinvolgere attivamente i ragazzi la giornata della statistica è stata una prima occasione poi ci sono stati una serie di focus group che sono stati ospitati da UNICEF con i ragazzi di UNICEF con i quali abbiamo discusso di alcuni temi il lavoro i social media altre tematiche sulle quali abbiamo raccolto delle indicazioni a volte forti a volte guardo Renata che insomma poi questi ragazzi li conosce meglio a volte ci hanno sconquassato proprio nel senso che noi partivamo con le nostre brave idee le nostre ipotesi e ce le siamo trovate in qualche modo distrutte in mano però non ci siamo scoraggiati siamo ripartiti abbiamo provato a ricostruire come era giusto che fosse perché in realtà se vuoi davvero rinnovare qualcosa qualche volta bisogna ricominciare da capo e i ragazzi ci hanno aiutato a ricominciare da capo quindi diciamo la giornata si colloca all'interno di quest'ambito cosa abbiamo fatto Chiara ha già anticipato il fatto che siamo andati in alcune scuole c'è stato anche un altro momento interculturale che Chiara in qualche modo ha anticipato cioè il momento interculturale tra noi e Unicef nel senso il problema di noi rigidi statistici con i nostri strumenti e Unicef che ci spiegava nei briefing che facevamo prima di andare in aula che non potevamo avvicinarci ai ragazzi in quella maniera che dovevamo arrivarci pian piano che c'era bisogno di una parte qualitativa di rapporto di stabilire una fiducia il discorso della fiducia è tornato tante volte nei momenti in cui ci siamo incontrati quindi vado avanti in qualche modo con le slide o vanno avanti ok grazie scusate grazie sì 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 ok in realtà il tema dell'intercultura che ci ha guidato che noi abbiamo proposto lo abbiamo affrontato prima con degli strumenti qualitativi siamo andati in aula e abbiamo proposto ai ragazzi un po' qual era la nostra strumentazione abbiamo fatto vedere qualcosa su come la statistica lavora cercando però di promuovere la loro libertà la loro creatività la loro fantasia e ne hanno veramente tanta e l'idea del viaggio ci è sembrato quella più opportuna per avvicinarci al tema della diversità delle differenze siamo partiti chiedendo loro qual era il viaggio che volevano fare e anche lì ci siamo divertiti io sono stata in aula a Roma i colleghi delle sedi regionali che hanno fatto un lavoro devo dire anche lì egregio e molto molto stretto nei tempi quindi insomma un grazie va anche a tutti i colleghi che nelle sedi regionali ci hanno supportato nel lavoro svolto abbiamo potuto vedere che anche sui viaggi i ragazzi sono molto fantasiosi ci hanno proposto dei viaggi strani qualche volta anche viaggi che andavano al di là della terra insomma quindi va benissimo abbiamo accolto un po' tutto anche perché noi non abbiamo dato delle definizioni non abbiamo dato delle definizioni di intercultura volutamente abbiamo voluto vedere cosa tiravano fuori loro e nel viaggio siamo poi passati al discorso della strada abbiamo proposto loro delle foto con una strada rappresentata e abbiamo chiesto loro di indicare sulla strada quali erano le differenze che incontravano percorrendo una strada a loro scelta poteva essere la strada da casa alla palestra da casa a scuola oppure una strada ideale e anche lì insomma sono venute fuori delle cose molto molto interessanti perché non vi dico niente dei contenuti perché in realtà poi vorrei che venissero fuori dai ragazzi nel momento di discussione vi anticipo solo alcune cose allora la cosa divertente è stata poi fare un passaggio il passaggio verso le altre città noi siamo stati a scuola i ragazzi hanno ragionato sul tema del viaggio sul tema della strada le differenze poi ci siamo fermati in qualche modo ci siamo rimessi la giacchetta da statistici e abbiamo cercato di far chiudere queste loro idee all'interno di un questionario con 4-5 quesiti per ciascuna classe dove l'esperimento era stato fatto 4-5 quesiti i 4-5 quesiti sono stati poi proposti in una delle altre scuole nelle altre città che avevano partecipato all'iniziativa e dopo qualche mese abbiamo fatto un percorso di restituzione nelle scuole dove questo è stato possibile per motivi organizzativi non tutte hanno partecipato e anche lì è stato molto divertente perché i ragazzi erano molto curiosi di sapere qual era stata la risposta alle domande che erano venute fuori anticipo soltanto alcune cose rispetto ai contenuti perché vorrei che potessero essere anche un po' riprese dai ragazzi nella discussione per raccogliere un po' il loro pensiero nella parte successiva la prima sensazione che abbiamo avuto qualcuno ha usato proprio questo termine la statistica è stretta la prima sensazione che ci portiamo dietro è un po' il fatto che tutti quanti loro si sentissero un po' speciali un po' diversi ogni volta che gli proponevi qualcosa manca una modalità c'è qualcosa che non basta cercavano qualcosa di più ampio cercavano se stessi e non si ritrovavano nelle poche modalità che avevamo proposto abbiamo dovuto fare tutto un discorso diciamo di sintesi che la statistica propone e che i ragazzi hanno vissuto inizialmente con qualche difficoltà un altro tema che è venuto fuori stamattina se ne parlava in uno degli incontri che si è svolto nella Gorà della comunicazione la differenza tra la realtà facciamola con la minuscola e la realtà con la maiuscola cioè i ragazzi ti parlavano della loro realtà quella vicino e proiettavano quello che avevano intorno come realtà generalizzata quindi tu andavi lì con i tuoi bravi numeri però lo dicono sì però nel mio quartiere e insistevano l'altro tema che sicuramente è emerso è l'appartenenza della statistica al mondo dei grandi diciamo i ragazzi che sono qui oggi sono già grandi rispetto a quelli che noi abbiamo intercettato nelle scuole medie ma nelle scuole medie c'è molto questa sensazione questo è da grandi questo è da giovani e va bene per noi la statistica spesso rispetto ad altre forme di informazione abbiamo visto veniva catalogata come qualcosa da grandi qualcosa che non apparteneva al loro mondo e questo insomma forse a noi statistici deve far riflettere e insomma non solo a noi statistici magari con l'aiuto di qualcuno che è statistico ho altri due temi che insomma vorrei lasciare sul tavolo perché i ragazzi magari li riprendano uno è il discorso della ricerca delle parole quando noi presentavamo i numeri da parte dei ragazzi c'era sempre la ricerca delle parole come se il numero spaventasse e loro ricercassero delle parole note per spiegarli per acchiapparli questi numeri era come se dare il numero senza fornire loro delle spiegazioni con delle parole conosciute non fosse sufficiente l'altra l'ultima cosa che invece voglio dire è per certi versi quindi la statistica è una cosa complicata e distante per certi per altri invece devo dire che i ragazzi stessi hanno delle capacità di sintesi impressionanti ero a Roma in una scuola a un certo punto si parlava di differenze sociali classi sociali tema insomma a noi particolarmente caro quartieri più in quartieri meno in eccetera a un certo punto delle ragazzine hanno fatto una classificazione del loro quartiere in base più o meno insomma al criterio di brutto bello ok e questo discorso del brutto e del bello è ritornato in tantissimi tantissimi momenti in cui noi abbiamo cercato di far classificare loro fenomeni soggetti eventi allora per carità cioè è chiaro che noi non possiamo fare statistiche del brutto o statistiche del bello ok però è anche chiaro che i ragazzi hanno in mente il concetto di sintesi in maniera efficace e poi insomma come lo fanno però è chiaro che cercano qualcosa di sintetico il problema a mio avviso è il solito trovare un linguaggio comune trovare il modo per incontrarsi è sempre lì il problema ce l'abbiamo avuto anche noi quando abbiamo iniziato a parlare con voi che magari dicevamo tante volte con Renata delle parole e Renata noi abbiamo fatto diverse riunioni Skype con loro che sono in posti diversi d'Italia e Renata faceva no aspettate e ci fermava giustamente è chiaro che è un discorso ecco quello che io mi domando e vorrei lasciare ripeto la domanda sul tavolo per parlarne poi con loro è ma ai ragazzi questo interessa cioè il dubbio che ti viene ovviamente è che al di là di alcuni in gamba svegli particolarmente partecipativi particolarmente sensibili magari su determinate questioni al resto interessa poi che ci sia questo avvicinamento della statistica perché la statistica può pure cercare di avvicinarsi ma se non c'è dall'altra parte un interesse è chiaro che la relazione rimane comunque monca ok questo io lo lascio ai ragazzi credo che siano loro che poi insomma oggi debbano essere di nuovo protagonisti no Chiara? assolutamente grazie applausi applausi noi siamo che siamo in giù qualcuno posso c'è una cosa che non ho detto ma che da qualche parte devo dire poi magari lo dirò anche nelle conclusioni della conferenza di domani per quanto io mi ricordi tante conferenze chiedo anche il conforto di Vittoria che ne ha vissuta almeno una più di me la prima c'era già la prima? sì e io invece sono arrivato con la seconda ma è la prima volta che coinvolgiamo in conferenza i ragazzi giusto? no così massiccia no no io mi ricordo ma non così massicciamente e non come protagonisti del no abbiamo fatto delle attività di promozione della cultura statistica anche alle conferenze non mi ricordo quella quella di Giovannini che c'era c'era un'area no dove io ho incontrato te per la prima volta ho detto ma chi è sta matta? povera me no perché era novembre lei era senza calze cioè tendenzialmente voi vedete Paola Cortese vestita di sette veli come Salome ma adesso dite è luglio ma lei anche a dicembre è così va bene momento così un po' di leggerezza parliamo adesso di un'altra esperienza un'esperienza che invece è rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado tutti noi diciamo delle superiori in italiano ci capiamo così e il bello di di questa cosa che adesso vi sentirete raccontare è che stiamo parlando di un'esperienza pilota e questo è già interessante che quindi potrà l'anno prossimo essere portata anche nelle nostre varie sedi territoriali io ci tengo a questo perché il rapporto diciamo così tra centro e periferia o più esattamente tra la direzione che si chiama me centrale che ha la parola cultura statistica e la rete dei soggetti che sul territorio da anni anche quando l'Istat presidiava poco questa funzione hanno sempre continuato a farlo per me è molto importante e la seconda cosa che per me è molto importante è che stiamo parlando di un'attività di sviluppo della cultura statistica fatta ma come già era questa con Unicef di cui stavamo parlando fatta non all'interno della disciplina curricolare della matematica ma fatta all'interno di un'altra disciplina curricolare con un ambito molto trasversale che è quello che ai miei tempi si chiamava educazione civica e che adesso si chiama Costituzione e cittadinanza grazie direttore grazie a voi di essere qui prego di avere una disponibilità delle slide questo progetto sarà presentato da me da altre due protagoniste del progetto nel senso che di fatto lo abbiamo progettato noi si tratta della dottoressa Bartolone e della dottoressa Panaccione nell'attività di pilota dell'iniziativa abbiamo avuto anche la collaborazione della dottoressa Claudia Tinelli stiamo parlando di statistica e cittadinanza ecco il no ve li chiama subito l'ambito disciplinare entro il quale poi questa attività nelle scuole noi proponiamo ok intanto proprio due parole velocissime per inquadrare il motivo per cui facciamo questo tipo di attività ci troviamo in un periodo di trasformazione anche abbastanza lungo di trasformazione in cui la funzione statistica deve trovare degli strumenti ulteriori per essere rispetto alla produzione certificata assolutamente valida totale su una totalità di aspetti che coprono quasi per intero quelli che sono i fenomeni sociali in realtà si deve trovare adesso a concorrere con la rivoluzione cosiddetta rivoluzione dei dati cioè una rivoluzione nella quale la fruizione e la disponibilità dei dati è talmente pesante talmente facile da agire è talmente anche opaca nei termini dell'informazione che restituisce che però è tale da creare in sostanza una sorta di smarrimento rispetto al dato stesso che viene utilizzato eventualmente nelle proprie attività anche di decisione parliamo di un cortocircuito informativo che in qualche maniera risente sia dei fenomeni di postorealtà cioè di tutta quella che di tutti quelli che sono i fenomeni che si legano alla postorealtà che di tutti quei fenomeni che invece si legano alla crescente capacità di acquisire dati e di analizzarli attraverso strumenti di analisi anche disponibili online che alla fine potrebbero portare di fatto molto spesso verifichiamo portano ad una incapacità di leggere il dato sottostante sostanzialmente cioè il dato quantitativo o il dato statistico che viene proposto alla fine se non è un dato accompagnato da un metadato è assolutamente inutile e tutto ciò potrebbe portare appunto ad una difficoltà ad orientarsi cioè se da una parte pensiamo che ci troviamo in un mondo in cui l'informazione va velocissima soprattutto accessibilissima dall'altra parte ci troviamo anche a dover constatare che tutta questa capacità di accesso e questa facilità di diffondere dati porta ad una difficoltà poi di orientarsi tra questa vasta mole di informazione quindi cosa può fare l'Istituto Nazionale di Statistica per venire incontro all'esigenza di fornire strumenti ai ragazzi affinché possano in qualche maniera orientarsi in questa situazione di grande trasformazione del dato della fruizione del dato può fare azioni di literacy e quello che di fatto facciamo è quello che facciamo come sviluppo della cultura statistica a livello centrale con il nostro direttore Barbieri ma anche attraverso la rete dei referenti territoriali Istat per lo sviluppo della cultura statistica passiamo subito al progetto perché non vorrei diciamo togliere troppo tempo agli altri agli altri relatori che ci parleranno invece io avevo mandato il mio timer invece no agli altri relatori che ci parleranno di quelli che sono i risultati dell'indagine pilota io voglio invece velocemente dirvi qual è il progetto in generale è un progetto che si inserisce come diceva il direttore Barbieri in una nuova in una disciplina che non è la matematica come riporto nell'ultimo riquadro ma è la disciplina cittadinanza e costituzione mi fa molto piacere ricordare raccontare che questo progetto in particolare è in sinergia con il MIUR nel senso che il MIUR ha accolto questo progetto lo ha presentato nella settimana della cultura della scuola digitale a gennaio scorso e lo ha inserito negli school kit come progetto tra gli school kit proprio per popolare la disciplina costituzione e cittadinanza perché? perché abbiamo un target comune che sono i ragazzi e perché abbiamo diciamo delle finalità degli obiettivi da raggiungere sovrapponibili che sono esattamente quelli della crescita dei ragazzi in termini di crescita umana e quindi di fornire loro degli strumenti per agire la propria cittadinanza in maniera consapevole quindi target e sovrapposizione anche di obiettivi e sì l'ho già detto sostanzialmente noi ci troviamo ad aver inserito questa attività ad aver avuto accolta questa attività nella nella curricula di cittadinanza e costituzione perché proponiamo un paradigma valido universalmente per la piena applicazione di diritti di cittadinanza e questo per noi è importante perché intanto è una matrice di riferimento per l'organizzazione consapevole delle vite individuali e della vita collettiva è un fondamento per lo sviluppo della cultura materiale e civile ed è la base di progresso del capitale umano e sociale inoltre è ancora importante per la disciplina specifica cittadinanza e costituzione perché questo progetto si inserisce come strumento di sensibilizzazione degli studenti alla lettura quantitativa dei fenomeni l'ho già detto trovate il progetto statistiche cittadinanza sotto forma di school kit in diverse pagine web del MIUR inoltre abbiamo aperte delle proposte di partnership con la rete di Coulter qui abbiamo il presidente della rete di Coulter infatti che ha diciamo come oggetto fondamentale della propria attività proprio il digitale cioè il digitale to core questa è chiaramente anche la promozione di quelli che sono i prodotti culturali del digitale l'archiviazione eccetera il 29 di maggio abbiamo tenuto in Aula Magna in Istat un primo incontro diciamo di raccolta di attività che potrebbero essere di valutazione di attività che potrebbero essere svolte in sovrapposizione qual è l'obiettivo generale del progetto è fornire gli strumenti necessari allo sviluppo delle capacità critiche di comprensione di analisi e di valutazione come abbiamo già detto si propongono ambienti virtuali per tutto ciò per raggiungere questi obiettivi virtuali di interazione virtuali di lavoro e virtuali di consultazione nonché si promuove la fruizione compiuta dei diritti di cittadinanza digitale proprio privilegiando questo canale come canale di lavoro condiviso gli obiettivi specifici sono quelli ancora un po' più tecnici anche di esplorare le misure statistiche di descrizione dei fenomeni collettivi che sono disponibili online di esplorare il metodo sottostante la produzione di statistica ufficiale e di esplorare il valore del metadato importantissimo ci sarà la testimonianza naturalmente anche del professore che ci ha seguito per la pilota e di uno dei ragazzi che ha lavorato con noi e che ha seguito l'attività nella scuola in tutto il corso in tutto il suo sviluppo e che ci parlerà dei primi risultati che abbiamo raggiunto in termini proprio di statistiche diciamo gli strumenti che abbiamo utilizzato innanzitutto il calendario istato della diffusione web che per noi è stato diciamo uno strumento fondamentale sia perché potevamo parlare con i ragazzi di qualcosa che poi avrebbe avuto un riscontro oggettivo in termini di qualificazione del fenomeno stesso sia perché è stato un momento attraverso il quale abbiamo diffuso e promosso l'utilizzo dei dati prodotti dall'ISTAT e quindi il patrimonio di dati documentale del nostro istituto abbiamo realizzato un sito web ad hoc per le attività in comune abbiamo realizzato un questionario per la consultazione online linkabile dal sito web abbiamo inoltre pensato a raccogliere informazioni contributi di tipo testuale attraverso l'attivazione di un blog l'iniziativa nel suo compresso prevede il progetto prevede una serie di iniziative che vengono svolte nelle scuole prevede la realizzazione di queste iniziative focalizzando su un tema specifico per alcuni messi l'attenzione dei ragazzi in base proprio a quello che è il calendario ISTAT della diffusione ed andando a selezionare privilegiando quelli che possono essere aspetti di grande interesse per la vita degli studenti l'iniziativa anticipa di oltre due mesi la diffusione della statistica ufficiale e si realizza si realizzerà simultaneamente sull'intero territorio nazionale a cura delle sedi territoriali ISTAT quindi il primo strumento è il calendario delle diffusioni vediamo se riesco ad andare avanti ok il secondo strumento è il portale web nel quale andiamo ad inserire il link al questionario questo è stato già tutto testato il blog multicontributo e alcuni contributi in termini di risultati dell'attività svolta il questionario online viene appunto realizzato attraverso strumenti gratuiti nello specifico poi vedrete qual è il tema che è stato trattato nella pirota che è stato anticipato in qualche maniera in questa slide e c'è stato quindi questo spazio animato adeguato per la raccolta di contributi liberi degli studenti di cui andremo a dire subito perché se l'obiettivo operativo degli strumenti web era quello di diffondere i contenuti del progetto di raccogliere presso gli studenti di alcune scuole selezionate i contributi liberi i contributi da questionario di pubblicare e archiviare i risultati delle attività svolte nel tempo e di promuovere il patrimonio documentale dell'istituto nazionale di statistica il 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 contributo no sono andata un po' troppo avanti però ci voglio andare perché è più lineare come discorso eccolo qua la finalità dei dati che abbiamo raccolto attraverso questionario è stata quella di andare ad evidenziare il gap che c'è tra il la percezione che i ragazzi hanno di un determinato fenomeno che è quello che poi scegliamo e la statistica ufficiale che di lì a poco produrrà i dati più freschi su quell'argomento stesso e la finalità del del blog invece è anch'essa diciamo apporta anch'essa un contenuto innovativo perché è quella di raccogliere informazioni tematicamente organizzate e metodologicamente coerenti che possano essere utilizzati che definiscano un dataset che possa essere utilizzate per un'analisi sperimentale del tipo sentiment analysis su questo aspetto abbiamo assicurato il contributo di alcuni esperti in materia ed abbiamo già incontrato in istituto alcune figure che ci possono e ci vogliono sostenere oltre al diciamo al contesto online al contesto web abbiamo avuto anche degli incontri con i ragazzi noi incontriamo in particolare una classe target all'interno di un istituto perché questa classe target si farà promotrice di una serie di attività presso la propria scuola infatti sono adeguatamente documentate sull'intero processo e a questa classe target verrà chiesto anche di raccogliere i dati da questionario e di sostenere l'implementazione del blog in un secondo incontro l'istat insieme alla classe target illustra alla scuola i contenuti del progetto dell'attività alle quali la scuola è chiamata per la quale la scuola si è candidata a partecipare e contestualmente si rende disponibile l'area web e i link al questionario e al blog di questo abbiamo già parlato ho finito ho finito ho finito dicendo finisco che i dati che abbiamo fino ad ora raccolto nell'attività pilota saranno poi riproposti in un incontro finale che non abbiamo avuto modo negli ultimi giorni di scuola di chiudere di fare con la scuola con la classe target e la scuola per intero ma saranno di qui a breve diffusi anche presso quella platea e in particolare però oggi avremo un'anticipazione questa anticipazione ci verrà proprio da uno dei ragazzi che sui risultati ci verrà da uno dei ragazzi che prenderà la parola dopo di me in realtà adesso segue il contributo di Manuela Buon pomeriggio a tutti io sono Manuela Bartoloni e come anticipato da Paola sono nell'iniziativa che si occupa del progetto Statistica e Cittadinanza io oggi vorrei parlarvi dell'iniziativa pilota che abbiamo appena realizzato in termini soprattutto di potenzialità e criticità alcuni argomenti alcuni aspetti sono già stati esaminati dalla dottoressa Cortese che ci coordina e adesso li vedremo in maniera più approfondita proprio con l'applicazione all'indagine pilota che abbiamo realizzato nell'istituto Talete posso ok sì sì no una piccola premessa chiaramente per far ciò è necessario riprendere e analizzare in maniera più approfondita gli strumenti utilizzati con un'analisi critica degli stessi in funzione proprio dell'eventuale discrepanza che si è verificata tra gli output attesi e quelli effettivamente conseguiti ponendo comunque l'attenzione sia sulle aspetti di sui punti di forza che hanno contribuito e hanno centrato gli obiettivi programmati sia sulle criticità che invece hanno determinato proprio quella discrepanza tra risultati attesi e quelli realizzati possiamo affermare con certezza che il tema dell'iniziativa pilota che è il consumo di alcol in Italia è stato un punto di forza della nostra iniziativa perché è un tema che suscita interesse e curiosità tra i giovani con questa iniziativa si è prevista la somministrazione di un questionario proprio per misurare la percezione dei ragazzi sui rischi derivanti dal consumo di alcol in particolare sulle caratteristiche principali del fenomeno in termini di consistenza diffusione e contesti vedremo meglio proprio dalla lettura del questionario negli interventi successivi i quesiti del questionario saranno anche poi focalizzati e distinti per genere e per classi di età considerando i ragazzi dagli 11 ai 19 anni in generale i contenuti dell'iniziativa sono selezionati sulla base delle pubblicazioni istat inserite nel calendario annuale delle diffusioni web il documento di riferimento per la nostra iniziativa pilota è stata la tavola dei dati pubblicata il 16 maggio 2018 appunto la tavola dei dati sul consumo di alcol da tale tavola e quindi da tale pubblicazione abbiamo individuato le variabili per la formulazione dei quesiti queste variabili sono presenti di fatto nella sezione condizioni di salute ai stili di vita del questionario relativo all'indagine e aspetti della vita quotidiana quindi il database derivante dal questionario è stato messo a confronto con questa tavola dei dati così da poter effettuare effettivamente un confronto tra la percezione degli studenti sul fenomeno e il dato oggettivo di statistica ufficiale le analisi ed elaborazioni sul nostro DB sono confluite in un report statistico un articolo che verrà diffuso sulla piattaforma web dedicata quindi il questionario è stato il primo è uno dei due strumenti di raccolta dati l'altro strumento è il blog che come anticipato dalla dottoressa cortese è una raccolta di contributi liberi degli studenti che possono essere dei testi di commento o foto da utilizzare per la sentiment analysis allora in linea generale la sentiment analysis vuole misurare e controllare l'opinione nel nostro caso degli studenti che deriva dalla lettura dei testi e dall'elaborazione del linguaggio chiaramente siamo in una fase ancora di avvio sperimentale e ci si avvarrà come già detto dalla dottoressa cortese del contributo di alcuni esperti così da riuscire a costituire un'architettura diciamo da un punto di vista tecnologico informativo adeguata da rendere al meglio questa nuova base di dati è di fatto un data set di dati testuali organizzati sia per tematica nel corso poi del progetto quindi avremo conferire in questo data set una serie di tematiche differenti una per ciascuna iniziativa al momento quindi il data set che prevediamo di costituire sarà organizzato rispetto alla tematica del consumo di alcol e sarà organizzato rispetto ad un target già predefinito che è appunto la sottopopolazione degli studenti dei ragazzi di quella classe di età lo strumento iniziale di lavoro da cui è partito il tutto è il calendario della diffusione degli eventi nel quale vengono pubblicate le date di ciascun prodotto editoriale in uscita nel corso dell'anno quindi in linea con la pubblicazione in uscita e individuate le tematiche prende avvio la nostra iniziativa e si sviluppa il timing delle varie attività abbiamo iniziato al fine febbraio c'è stato un periodo di circa due mesi in cui gli studenti potevano accedere alla piattaforma per la consultazione online sia tramite il questionario che nel blog e si concluderà con la condivisione dei risultati con un seminario della scuola e la pubblicazione di questo articolo report appunto dei risultati ottenuti il prodotto quindi di riferimento la pubblicazione di riferimento per l'iniziativa pilota è stata la tavola dei dati con i relativi allegati quindi la nota metodologica il glossario dei termini tecnici utilizzati una breve parentesi su quale sia il bacino informativo su quale possiamo attingere e quindi poter utilizzare per le prossime iniziative cioè la tavola dei dati è una delle pubblicazioni istat possibili quindi ci sono altre pubblicazioni che sono quelle in senso stretto le pubblicazioni scientifiche monografiche e ci sono i data warehouse e report vari che costituiscono quindi il nostro strumento iniziale di lavoro adesso soffermiamoci sui punti di forza quindi dopo questa analisi dettagliata degli strumenti e degli output vediamo quali sono stati i punti di forza che ci hanno consentito di centrare gli obiettivi strategici dell'istat quindi sicuramente la scelta del tema la valorizzazione del prodotto di diffusione l'auto sul gap di percezione e l'utilizzo di moderne tecnologie sono stati fondamentali gli obiettivi perseguiti sono lo sviluppo della cultura statistica tra le nuove generazioni che come diceva il direttore Barbieri è qualcosa in più rispetto alla promozione perché in sé è un concetto di crescita di consolidamento e di progresso di conoscenza abbiamo valorizzato tutto il patrimonio informativo documentale dell'istat facendo conoscere i nostri prodotti e appunto in fase sperimentale vogliamo tentare di produrre delle statistiche sperimentali utilizzando nuove fonti di dati da blog e applicando metodi innovativi per la produzione di tali dati attraverso appunto la sentiment analisi i punti di debolezza che abbiamo riscontrato sono i seguenti abbiamo avuto qualche difficoltà nel promuovere il più ampio e spontaneo coinvolgimento della scuola le azioni previste erano quelle di divulgare l'iniziativa tra gli studenti dell'istituto a cura della classe target di sensibilizzare l'intero corpo docente l'incaricato era il docente stesso della classe animare il globe dovevamo occuparci noi grazie al continuo monitoraggio della consultazione con la verifica continua del numero dei questionari e post inseriti ad un certo punto ci siamo resi conto a circa un mese dall'inizio della consultazione che la risposta alla partecipazione era inferiore alle aspettative alle nostre attese quindi abbiamo dovuto in qualche modo trovare una soluzione in itinere un aggiustamento degli strumenti in corso abbiamo avuto un maggiore sostegno da parte dei docenti e del dirigente scolastico così da prevedere la compilazione del questionario nel laboratorio di informatica quindi le classi in qualche modo erano tenute a rispondere al questionario durante l'orario scolastico la criticità più forte è stata quella del blog quindi abbiamo deciso di trasformare il blog totalmente e convertirlo in un quesito in forma aperta nel questionario cioè è diventato un ultimo quesito del questionario quindi in questa slide vediamo a sinistra c'era la formulazione del blog originaria con questo stimolo che tentava di suscitare interesse e spunti di riflessione poi è divenuto un semplice quesito quindi con i problemi che possono derivare vorremmo cercare di recuperare appunto la formulazione del blog così concepito nella sua forma originaria pensando di rafforzare la partnership con le scuole quindi di consolidare il patto con la scuola per il raggiungimento degli obiettivi nei tempi prefissati e promuovere e animare il blog con un esperto in comunicazione un moderatore per il popolamento e la dinamicità del blog la caratteristica fondamentale del blog è questa continua evoluzione dei contenuti che deriva dall'interazione tra i pari e con il moderatore che quindi dobbiamo in qualche modo recuperare a tal fine si potrebbero sfruttare anche le economie di scopo tra il docente animatore digitale previsto da piano nazionale della scuola digitale e l'esperto blogger di cui abbiamo necessità quindi in tal modo con le funzioni condivise tra Istat e Miur tentiamo di recuperare e di portare a casa il risultato in maniera ottimale vi ringrazio grazie con estreme sintesi ci farà vedere gli strumenti web che abbiamo utilizzato in maniera molto veloce Buonasera a tutti, vi presenterò in estrema sintesi quali sono stati gli strumenti che abbiamo utilizzato per realizzare questa prima iniziativa pilota. E trattandosi di raggiungere i ragazzi delle scuole superiori abbiamo immaginato di raggiungerli meglio con degli strumenti che in qualche modo sono sul web, che si raggiungono attraverso il web. Infatti i dati che ogni anno l'indagine che l'Istat realizza sugli aspetti della vita quotidiana e che vanno ad analizzare anche l'utilizzo di internet ci dicono che proprio i ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono il gruppo nel quale si trova il numero più alto di utilizzatori di internet insieme a quelli che hanno 18 e 19 anni. E quindi abbiamo previsto un'area web che appunto vi sto per illustrare che includesse tutti gli strumenti che abbiamo utilizzato. Un'area web che è stata costruita ad hoc e che presentava chiaramente diciamo che rendeva accessibili a tutti, agli studenti, ai loro genitori trattandosi appunto di ragazzi per la stragrande maggioranza minorenni e anche alla scuola, quali fossero gli obiettivi del progetto, in che consistessero le attività del progetto, gli avanzamenti ma anche le statistiche oggetto di diffusione che sono oggetto appunto di questa iniziativa e poi via via quello che sarà. Nell'area web è incluso anche il collegamento a un questionario elettronico che abbiamo costruito proprio per realizzare la consultazione online che aveva l'obiettivo principale di misurare la distanza tra la percezione del fenomeno e le statistiche ufficiali. E poi come vi ha già anticipato Manuela abbiamo creato anche un web, un blog per animare la discussione, per dare voce alle opinioni dei ragazzi e soprattutto per raccogliere i loro giudizi, le loro idee, le loro impressioni sul fenomeno che andavamo a scandagliare in qualche modo raccoglierle senza il condizionamento che un questionario, che un quesito precostituito può esercitare. Ed ecco una immagine del sito web Statistiche e Cittadinanza. Sia il sito che il questionario che il blog sono stati costruiti scegliendo di utilizzare dei software gratuiti che Google mette a disposizione. Abbiamo preso questa decisione perché si tratta di software estremamente facili da utilizzare che in quanto gratuiti ci consentono di immaginare e di utilizzarli con i ragazzi in senso collaborativo. Cioè noi chiederemo ai ragazzi nelle prossime edizioni di costruire insieme a noi il questionario per rilevare la percezione, di scrivere l'articolo ma anche di animare il blog. E queste operazioni sono fattibili appunto se si sceglie un software gratuito e facilmente accessibile. Allora stiamo vedendo un'immagine della home page di Statistiche e Cittadinanza. Nella home page abbiamo scelto di inserire un link diretto proprio dalla home page alle informazioni più rilevanti. Scopri di più va ad aprire un'area del sito in cui ci sono tutte le informazioni su chi realizza il progetto, in cosa consiste, il contesto nel quale viene realizzato. L'iniziativa in corso contiene tutti i dettagli appunto sull'iniziativa che si sta realizzando. Abbiamo inserito anche una serie di stimoli, di citazioni che invitano i ragazzi a riflettere sul tema del progetto, non tanto dell'iniziativa. E questa è un'altra immagine della home page in cui abbiamo inserito anche la locandina del seminario che abbiamo realizzato a scuola per presentare a tutti gli studenti l'iniziativa in corso. E poi in fondo alla home page abbiamo messo il link diretto al questionario per la consultazione online e al blog. Ora vado avanti velocemente, vi scorro velocemente alcune aree di questo sito in cui abbiamo messo le informazioni fondamentali per inquadrare il progetto nel contesto dello sviluppo della cultura statistica. Informazioni relative all'iniziativa in corso in cui si chiariva quali sono le attività che sono chieste ai ragazzi e quella di rispondere ad un breve questionario, di scrivere un commento nel blog, ma anche di inviare una foto, un video ad un indirizzo internet che abbiamo predisposto per immagini o video che in qualche modo restituissero il concetto, l'idea, il giudizio che altrimenti avrebbero espresso attraverso un testo libero. Ora, questa è un'immagine del blog, ma siccome ne abbiamo già parlato prima vado avanti e andiamo a vedere rapidamente il questionario. L'obiettivo del questionario era quello di andare a misurare la distanza tra la percezione di un fenomeno relativamente alla propria classe di età, i coetanei, e gli indicatori misurati dalla statistica ufficiale. Il questionario era un questionario ad accesso libero, senza la necessità di inserire delle password. Questo è stato previsto per facilitare al massimo l'accesso a un questionario elettronico che è stato costruito anche per essere compilato attraverso non solo un pc, ma anche un tablet, un cellulare. Il primo quesito, i primi due quesiti del questionario servivano per tracciare un profilo minimo del rispondente. Abbiamo chiesto soltanto di indicare il sesso e l'età e le modalità di risposta dell'età le abbiamo scelte in funzione dell'obiettivo di azzerare il rischio di identificazione dei ragazzi, perché abbiamo previsto anche che i ragazzi successivamente si trovino ad elaborare i dati del file dei microdati. Quindi abbiamo avuto un'attenzione specifica proprio alla privacy dei ragazzi. Poi abbiamo previsto un primo quesito, un solo quesito che analizza in qualche modo la percezione del consumo di alcol come rischio per la salute e tutta una serie di quesiti che andavano a misurare la diffusione del consumo di alcol quotidiano, occasionale nella classe di età 11-17 anni. Dalle facce che vedo mi pare di capire che sono... devo concludere. Ed altri quesiti che invece andavano a misurare le opinioni sulle differenze di genere appunto nel consumo dell'alcol. Il questionario si concludeva con un ultimo quesito aperto, quello che ha recuperato in qualche modo la funzione del blog in cui si chiedeva di esprimere un giudizio sul consumo dell'alcol come appunto un rischio per la salute ed era un quesito appunto aperto. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Adesso il professor Tassoni molto velocemente ci dirà il suo punto di vista da parte, diciamo, professore della scuola. La scuola è il progetto. Molto velocemente ti prego Fabio e mi scuso perché magari sono stata anche io abbastanza lunga. Buonasera, mi chiamo Fabio Tassoni, insegno matematica e fisica al liceo scientifico Talete dal 2010 e porto i saluti del mio preside, il professor Cataneo, che non è potuto essere presente perché sta facendo gli esami come li sto facendo io, vengo direttamente dai colloqui d'esame. La collaborazione del liceo Talete con l'Istat è già iniziata nel 2016, abbiamo già fatto un altro progetto che è stato presentato alla dodicesima conferenza nazionale e questo riguardava il cyberbullismo. Questo invece, questo progetto pilota che riguarda cittadinanza e costituzione come una multidisciplina e chiaramente si tratta di una questione sulla quale c'è molta sensibilità all'interno delle scuole. Tenete presente che nel nostro istituto la materia alternativa alla religione cattolica si chiama già da sempre cittadinanza e costituzione ed è inoltre diciamo una, è un'iniziativa che è perfettamente coerente con la missione d'istituto perché in essa è presente il concetto di cittadinanza attiva ed è anche presente il concetto di protagonismo giovanile. E inoltre per la scuola ovviamente la collaborazione con l'Istat, che è uno degli istituti più importanti e dello Stato, delle istituzioni più importanti dello Stato, è strategica come contributo alla formazione di alto livello degli studenti. La cosa interessante è che gli studenti non sanno, non è che non sanno cos'è l'Istat, non sanno neanche che esiste l'Istat, mentre gli adulti spesso e volentieri sanno che l'Istat esiste ma non sanno che cosa fa, molti ragazzi non sanno neanche che esiste. Forse magari l'hanno sentito nominare in televisione ma non sanno che cosa fa. Quindi un progetto di questo tipo è stato molto interessante perché la prima cosa che è stata fatta è stato un incontro in cui il personale di Istat, la dottoressa Cortese e la dottoressa Pannaccione sono venute in istituto a spiegare in pratica non tanto cos'è l'Istat ma soprattutto che cosa fa, anche se ovviamente in termini molto semplici, a spiegare ai ragazzi la differenza fra la statistica ufficiale e ciò a cui loro sono abituati, cioè a sondaggi. In particolare hanno cercato di spiegare il concetto di metadato, che cosa vuol dire? che se tu hai un dato dall'Istat sei in grado di sapere questo dato cosa rappresenta, come è stato ottenuto, il campione, la numerazione del campione, il fatto che puoi andartelo a vedere e poi suddividere per aree geografiche, per aree di età eccetera eccetera. Quindi tutto il concetto di metadati. Il secondo incontro è stata la presentazione del questionario ai ragazzi della classe target, il terzo incontro ha considerato la progettazione della rilevazione, questo dirò due parole dopo, il quanto incontro è stato un seminario in cui è stata presentata l'iniziativa a tutta la scuola, che è stato abbastanza partecipato, in cui è stato fatto quasi un giochetto con i ragazzi, con un'applicazione CAUT, per fargli vedere proprio come spesso e volentieri la percezione riguardava per esempio i dati riferiti proprio della nostra scuola, ed è stato molto interessante. L'organizzazione della fase della raccolta dati è stata molto importante perché è stata fatta la scelta strategica obbligata del laboratorio di informatica, perché altrimenti pensare che dei ragazzi si mettevano a casa da soli a riempire un questionario del genere poteva prolungare troppo i tempi, invece abbiamo voluto utilizzare l'unico spazio della scuola dove sono presenti un certo numero di computer che è il laboratorio di informatica. Questo diciamo che ha generato qualche problema dal punto di vista logistico che però devo dire che i ragazzi hanno gestito in modo quasi autonomo, cioè loro stessi hanno gestito la discesa delle classi in laboratorio ed è stata una cosa per loro molto interessante, infatti il ruolo attivo della classe target, poi ovviamente c'è stata la collaborazione di tutte le altre componenti dell'istituto, primo di tutti il dirigente scolastico, il preside, che ovviamente vive queste cose con certo entusiasmo e abbiamo ottenuto così una copertura abbastanza interessante, praticamente della metà degli studenti della scuola, quindi circa 500, poco meno di 500 ragazzi. Allora i punti di forza sono stati, appunto, consistono nel fatto che questi ragazzi, particolarmente quelli della classe target, ora hanno una percezione diversa dell'esistenza, soprattutto dell'importanza dell'istat e hanno avuto molto interesse per il progetto, soprattutto perché è un'attività extracurricolare di tipo nuovo, nella quale sono stati protagonisti principali e purtroppo abbiamo avuto dei punti critici, il discorso relativo alla logistica, utilizzare il laboratorio di informatica non è stato semplice perché nella nostra scuola noi abbiamo quello che si chiama DADA, non so se qualcuno che ha i figli a scuola sa che cos'è, didattica per ambienti di apprendimento, cioè sostanzialmente le aule, le classi non hanno più la loro aula, ma l'aula è di dipartimento, cioè in una certa aula si fa matematica, in un'altra aula si fa storia, eccetera, quindi i ragazzi girano e quindi il laboratorio di informatica è un'aula come tutte le altre ed è sempre occupato per lezioni, quindi utilizzare il laboratorio non è stato semplice, ma i ragazzi se la sono cavata bene, soprattutto tenendo presente, e questo è il secondo punto critico, tenendo presente che abbiamo proposto come classe target una classe di seconda, una seconda sembra strano, sarebbe stato più utile, più logico far partecipare una quarta, una quinta, invece la questione non è così, perché a scuola noi abbiamo il discorso dell'alternanza scuola-lavoro, sapete che ormai dal 2015 c'è questo fatto dell'alternanza scuola-lavoro, le classi terza, quarta e quinta devono fare 200 ore di alternanza scuola-lavoro, quindi di fatto è praticamente impossibile far fare ai ragazzi di terza, quarta e quinta qualunque cosa che non sia alternanza scuola-lavoro, è praticamente impossibile, quindi noi abbiamo dovuto fare interessare una seconda, che poi ovviamente questi ragazzi di seconda sono stati molto bravi, hanno reagito molto bene, questo è un altro discorso, però diciamo che per la prosecuzione del nostro rapporto con l'Istat sarebbe interessante se in qualche modo si potesse riuscire a stipulare una convenzione di alternanza scuola-lavoro, se l'alternanza scuola-lavoro rimarrà esattamente come è, cosa che sinceramente, diciamo questo lo dico da dentro la scuola, ci aspettiamo sinceramente qualche cambiamento, perché insomma si tratta di una iniziativa che può essere sicuramente molto migliorata, questo diciamo è quello che in qualche modo mi sento di dire. Quello che dovremo ancora fare sarà andare a vedere gli indicatori e in particolare la redazione del rapporto finale, questo ancora non è stato fatto perché ovviamente i dati sono arrivati da poco, è stata fatta solo una prima indagine e i risultati finali di tutto il progetto verranno presentati a un evento sul piano nazionale di scuola digitale per la quale la mia scuola, il liceo scientifico da Lede, è capofila in tutto il Lazio, lo sta organizzando 21, 22 e 23 ottobre in una location ancora da definire, ma che comunque comparirà e quindi in quella sede diciamo saranno presentati anche i risultati finali. Grazie a tutti. Adesso chiamo Luigi, Luigi ci farà... E li vediamo nella parte della scuola di Atene, i risultati dell'analisi? Sì? Certo, sì sì. Scusaci Luigi. Magari la scuola di Atene la iniziamo subito dopo, perché abbiamo finito. No, perché purtroppo sul programma stampa c'era fino alle 15, quindi la professoressa Pratesi se ne è dovuta scappare perché alle 15 aveva un altro impegno, però io vorrei che dal momento che avevamo organizzato questa sessione in modo che fossero rappresentati vari cicli scolastici, chiederei per cortesia a Alessandro Valentini di completare questo quadro con l'esperienza su... Beh, ce la racconta poi lui. E direi che immediatamente dopo cominciamo la parte scuola di Atene, diamo spazio sia ai ragazzi di Unicef, sia... Anzi, gli diamo la precedenza al ragazzo del Talete che ci presenta i risultati del loro lavoro. Quindi facciamo una parte l'ultima e una parte l'altra. Intanto che vengono caricate le slide, mi scuso con Luigi, insomma. Scusami. Per favore. Si chiamano Pratesi e Valentini, le slide. Quindi, dopo aver iniziato molto male, perché... Non vanno. Ok? Certo. Certo. Grazie mille. Allora, cerco di andare anch'io veramente rapido, perché il pomeriggio è stato denso. L'idea è quella... Ah, giusto. Questo. Ah, va. Il pomeriggio è stato denso. L'idea è quella di andare ad esaminare la questione della promozione e misurazione della cultura statistica, stavolta in ambito universitario. abbiamo esaminato nella sezione pomeridiana tutte le questioni relative al diluvio di dati, alla necessità che un cittadino consapevole abbia un senso critico sviluppato. Questo vale assolutamente in tutti gli ordini di scuola, ma vale ancora di più all'università, perché l'università è l'ultimo momento inserito in un percorso di studi formale in cui una persona può ancora ricevere un bagaglio culturale che altrimenti o se lo riceve dal punto di vista individuale o in base alle sue esperienze oppure non lo acquisisce più. Nell'ottica proprio della cultura statistica uno degli scopi dell'università è anche quello di preparare gli studenti per il futuro e quello di essere, di avere un minimo di bagaglio culturale positivo anche in termini di statistical literacy. Quale percorso abbiamo fatto? Con l'università di Pisa abbiamo fatto un percorso, era SIS, basato su due punti. Il primo punto è quello relativo alla mappatura della situazione, alla mappatura dell'esistente a partire dal primo anno quindi dagli studenti matricole e poi un percorso sulla base di questi risultati l'impostazione di un percorso per proporre strumenti nuovi di intervento in ambito universitario. Mi dispiace non sia presente in aula la professoressa Pratesi perché il percorso è condiviso Istat, Società Italiana della Statistica e coinvolgimento in questa ampia sperimentazione condotta in Toscana di tutti e tre gli Atenei grazie agli interventi della stessa professoressa Pratesi della professoressa Petrucci di Firenze e del professor Ghellini di Siena. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di misurare la cultura statistica. Il concetto di misurazione è un concetto che richiede un minimo di formalità quindi tutta una serie di definizioni che insomma dato allora e dato il contesto evito però fondamentalmente il framework legato alla cultura della statistica impone una concettualizzazione di cosa si intende per cultura statistica che se la definizione è chiara statistica in literacy è l'abilità di capire valutare criticamente diciamo le statistiche e in particolar modo è utilizzare i dati per fare delle decisioni un po' meno chiara è la questione relativa alla concettualizzazione quindi al cosa questo significhi nel concreto ci siamo comunque ispirati alla definizione dell'UNESCE secondo cui questo sottende tre dimensioni la numerasi in primo luogo ovviamente la capacità di comunicare le statistiche e poi la capacità di scoprire che le statistiche possano essere veramente utili per la vita professionale ma anche per fare le scelte private stante questo abbiamo esaminato anche il framework di riferimento internazionale per ciò che concerne le esperienze recenti di misurazione della cultura statistica in vari progetti di tipo internazionale e nel frattempo è arrivata la professoressa Pratesi abbiamo sviluppato insieme un questionario che senza fantasia abbiamo chiamato CUVA STAT questionario per la valutazione per la misurazione della cultura statistica basata su le cinque aree tematiche che vedete indicate nella slide conducendo prima della somministrazione su ampia scala una serie di sperimentazioni in contesti vari rivolti tutti a un pubblico adulto quindi ai corsi di statistica nell'università ai partecipanti agli eventi giornata della statistica notte dei ricercatori ma anche al festival della statistica a corsi diversi per insegnanti questo questionario è stato somministrato qualche tempo fa nel 2015 ne abbiamo ripetuto una somministrazione anche quest'anno ma i risultati sono in corso di elaborazione a quante persone? Beh a circa 11.000 matricole delle università di Pisa Firenze e Siena università di Pisa tutti i corsi di laurea università di Firenze agli studenti di economia e scienze politiche università di Siena studenti di vari gruppi di corso di laurea abbiamo acquisito i dati anagrafici dei diversi studenti in maniera tale da poterli centralizzare in un database inviando poi il questionario il link al questionario per post elettronica la risposta al questionario poteva essere fornita in vari modi utilizzando i vari strumenti disponibili dal computer al tablet e quant'altro per evitare che ci fosse copia copia quindi citing gli item sono stati formulati in maniera diversa cioè ogni domanda ha avuto 5 diverse formulazioni inoltre i quesiti non sono stati formulati in ordine ma in maniera random proprio in maniera tale da avere virtualmente un numero infinito di questionari e allora tanto sei bloccata e allora siamo partiti ma per partire avevamo bisogno che l'iniziativa fosse sostenuta per sostenerla abbiamo lanciato una serie di locandine disperse presso le varie zone delle università abbiamo presentato laddove è possibile l'iniziativa nelle classi ma le classi sono tutti corsi di laurea quindi questo l'abbiamo fatto a campione ma più che altro abbiamo cercato di farlo in maniera divertente per gli studenti in maniera giocosa attraverso uno slogan del tipo gioca con la statistica e scoprirà il tuo profilo statistico in maniera tale che l'omino diciamo potesse collocarsi dal seme all'albero della statistica e potesse decidere lui di compilare spontaneamente il questionario per curiosità e di collocarsi in base al numero di risposte esatte muovendo il cruscotto statistico secondo 5 diversi profili a ciascuno dei quali era associato uno slogan seme quindi basso la tua coltura statistica ha bisogno di svilupparsi germoglio ha iniziato a coltivare la tua coltura statistica ma insomma c'hai sempre un bel percorso da fare piantina sei in crescita albero la tua coltura statistica sta mettendo le radici e poi albero della statistica punteggio massimo allora sei già a posto dal punto di vista della coltura statistica sei in piena fioritura e abbiamo avuto un buon livello di partecipazione da parte degli studenti tant'è che la partecipazione mediamente è stata di un terzo 32% degli oltre 10.000 studenti partecipanti con un tasso di risposta differenziato sulla base del gruppo di corso di laurea e del tipo di università non entro nei dettagli li vedete nella slide ma la cosa curiosa è stata che la partecipazione massima l'abbiamo avuta nell'ambito dei gruppi di laurea scientifici no statistica e quella più bassa per il gruppo medico giuridico nella slide sono riportati per vostra curiosità tre diverse domande in realtà così da cercare di capire come fosse formulato il questionario ecco per esempio la prima la tavola riporta la distribuzione degli sport frequentati da un gruppo di ragazzi questa riguarda la lettura e interpretazione delle tabelle grazie mille la domanda è confrontando le preferenze fra i gruppi si può affermare che il tennis è più diffuso tra le femmine che tra i maschi sta domanda apparentemente manale ha messo in crisi qualcuno perché la risposta corretta è sì perché una percentuale più alta di femmine rispetto ai maschi gioca a tennis infatti giocano a tennis 40 maschi e 40 femmine ma i maschi sono doppio delle femmine quindi la percentuale delle femmine è più alta questa domanda ha sbagliato un terzo delle persone quindi studenti universitari non è il massimo stessa cosa concetti base della probabilità scommessa a casino classica domanda di concetto base della probabilità è uscito per sette volte in rosso e ho perso sempre allora al prossimo lancio cosa devo cambio colore o no la risposta evidentemente è del tutto indifferente ma ancora una volta più di un terzo degli studenti c'è cascato diciamo così decisione in condizione di incertezza un'altra questione relativa al fatto che su un articolo di giornale riportata alla notizia che in una città di provincia i furti in abitazione sono passati da 4 a 8 allora che posso dire per il futuro uno che ha un minimo di razionalità qui non c'entra nulla lo studio della statistica dice posso dire nulla eppure un quarto degli studenti sbagliato quindi quindi tirando le somme questa è la distribuzione dei risultati sulla base dei vari profili da quelli meno letterati ai più letterati dal punto di vista statistico questa distribuzione è abbastanza asimmetrica a favore diciamo di un livello alto di cultura statistica ma tirando la somma in una scala da 0 a 100 la valutazione media è 63,7 punti un po' più che sufficiente quindi non è ottimo il livello di cultura statistica anche se diciamo si è raggiunto un minimo livello di sufficienza poi la cosa curiosa è andare a dettagliare questi risultati sulla base delle caratteristiche individuali dei diversi studenti e i risultati salienti sono rappresentati nella slide cioè primo luogo una differenza di genere a favore dei maschi in questo caso che è abbastanza questo giustificato da o sembra anche in base ai risultati dei test PISA una maggiore diciamo così inclinazione dei maschi ma ci sono differenze mi preme di più rilevare a seconda della tipologia di gruppo di laurea tipo di diploma e voto di diploma sul gruppo di corso di laurea è curioso rilevare come gli studenti di una facoltà economico-statistica abbiano una valutazione più bassa rispetto a quella degli studenti in un gruppo scientifico ingegneristico perché il gruppo scientifico ingegneristico è più abituato a ragionamento statistico a ragionamento non a ragionamento statistico stesso discorso per ciò che concerne le valutazioni più basse in termini di risultati e poi il link con la parte precedente di questa sezione ovvero sia la forte dipendenza rispetto al tipo di diploma ma anche al voto di diploma con il voto di diploma si capisce bene i più bravi quelli che si sono diplomatici con un voto più alto sono quelli che qualsiasi scuola abbiano scelto riescono ad avere una valutazione migliore quindi anche una maggiore capacità di sviluppo della statistica literacy e sul tipo di diploma c'è poi anche una correlazione tra il tipo di diploma ma insomma anche al netto di questo questo schema funziona chi ha fatto liceo o comunque una scuola tecnica è in grado di sviluppare un ragionamento statistico più alto più articolato rispetto a studenti che provengono da altri tipi di scuole e quindi in sintesi diciamo si può dire che in media purtroppo nemmeno nel primo anno dell'università emerge una grande attitudine a ragionamento statistico questo significa la bontà di tutte le iniziative che presso le scuole vengono fatte per promuovere sviluppare in senso critico la cultura statistica e quant'altro ma che anche c'è tutta una serie di effetti legati a caratteristiche individuali e una forte correlazione derivanti dai profili individuali abbiamo detto comunque i più bravi emergono sempre ripetendo attraverso un'analisi multivariata quindi che appunto al netto non è una circostanza al netto delle altre la stessa analisi non ci sono cambiamenti significativi e le sperimentazioni che abbiamo fatto dopo anche quella che abbiamo condotto quest'anno confermano questi tipi di risultati anche in ambito di altri contesti questo ci dà e qui vado a concludere una serie di idee su possibili strumenti di intervento possibili strumenti di azione per lo sviluppo all'università della statistica l'Itarist intanto è necessario sì o no direi di sì sicuramente in tutti gli ambiti perché purtroppo almeno ad ora il percorso scolastico non consente di arrivare a risultati diciamo buoni quindi si può insistere di più anche in ambito accademico intanto nei corsi in cui sono presenti corsi di statistica facoltà di statistica economia in parte eccetera va sviluppato però di più il ragionamento statistico piuttosto che lo studio delle formule diciamo delle applicazioni puramente statistiche viceversa nei corsi universitari in cui non sono presenti i corsi di statistica bisogna cercare di intervenire facendo in modo di fornire strumenti tali per cui si ritenga importante anche da parte degli studenti utilizzare il ragionamento statistico per le loro attività che ne so per una tesi di storia comunque la statistica è importante può essere utilizzata magari la statistica anche attraverso le nostre serie storiche sul 150esimo dell'Unità d'Italia ci raccontano tutta una serie di attività e quant'altro poi chiaramente ci sono e chiudo proposte più ampie l'utilizzo più forte degli strumenti tecnologici che gli studenti riconoscono benissimo questo è quindi molto semplice per loro cercare di andare attraverso le nostre banche dati utilizzare semplici strumenti di rappresentazione dei dati e quant'altro e poi intervenire attraverso un'azione più ampia di literacy per gli adulti che comprenda anche gli studenti universitari la professoressa Pratesi vuol dire qualcosa in chiusura quindi siamo liberi vieni qui però vieni qui però funziona? mi sentite? allora dicevo in aggiunta ma soltanto a margine è che i risultati per quanto affetti da bias di selezione per quanto non si tratta di un campione probabilistico però buona parte delle matricole delle tre università nel 2015 vennero intervistate quindi con queste limitazioni però pensate che questa è la classe dirigente di domani è parte della classe dirigente di domani quindi la situazione segnalata a mio modesto avviso è piuttosto grave e motiva l'attività successiva che la società italiana di statistica insieme a Istat ha deciso di svolgere e anche indipendentemente da Istat che è proprio quella di promozione fin da subito cioè dalle scuole elementari poi le medie poi le scuole secondarie e superiori degli strumenti di formazione utili a facilitare lo sviluppo della capacità di ragionamento statistico che non è ragionamento matematico che non è linguaggio parlato italiano altra lingua straniera o comunque un linguaggio basato su una grammatica la statistica ha una grammatica sua è la terza gamba della formazione italiana matematica e statistica è inutile che ci si giri intorno e purtroppo gli interlocutori a cui far arrivare questo messaggio sono sicuramente gli Istat è senz'altro la società italiana di statistica che già dal 1939 lavora per lo sviluppo prima limitatamente forse all'ambito accademico poi estendendolo sempre di più ma i soci della società italiana di statistica non sono tutti accademici questo va detto però insomma gli interlocutori non siamo noi serve il ministero il ministero università ricerca scientifica deve aiutarci in questo è una responsabilità sociale non si tratta di sventolar bandiere perché la nostra disciplina abbia più punti organici all'università o abbia maggiori posti nella docenza della scuola in tutti gli ordini e livelli è proprio una necessità per la vita democratica per la partecipazione attiva per sapersi rendere conto per sapere andare a cercare i dati anche perché una cosa che noi abbiamo rilevato è che beh sì l'istat certo il sito dell'istat fantastico ma i dati dove li prendiamo magari ci si fida di più di qualcosa che si trova via internet facilmente scaricabile senza troppi problemi se poi sono 122 aziende come l'ultima tesi di laurea a cui ho assistito e vabbè poi su quelle si può dire tanto cioè manca e questo forse è colpa anche nostra che non siamo stati capaci di formare a sufficienza ma non credo che sia solo una responsabilità nostra è una questione più larga che coinvolge tanti elementi che ora nel caso di stare a discutere qui magari più tardi se si ha voglia di continuare la discussione se ne può parlare è importante però segnalare questo questi saranno comunque la classe dirigente parte della classe dirigente di domani alcuni di loro sicuramente speriamo che siano quelli che sanno più statistiche e ho detto questo io sono sparita perché accanto c'era la presentazione del progetto di master europeo in statistica ufficiale forti di queste esperienze ma già dal 2010 più o meno noi perché poi alla fine con diverse giacchette ma siamo grossomodo sempre le stesse persone che sono fortemente convinte di questo e quindi continuano nei vari ambiti istituzionali in cui si trovano a dirle queste cose e a farle anche le azioni che avete visto insomma le stesse persone si sono fatte parte attiva per promuovere un master europeo in statistica ufficiale master nel linguaggio internazionale vuol dire laurea magistrale allora nelle varie lauree si è lavorato per aprire dei percorsi formativi curricolari in statistica ufficiale in maniera tale che l'ISS council no committee potesse dare il bollino blu di laureato esperto capace di lavorare con i dati statistici capace di interloquire con coloro che sono deputati a l'azione politica e quindi i decisori capaci anche di dare consulenze mirate specchiate e da un punto di vista sostantivo corrette allora stiamo lavorando tutti molto su questo fronte e io tengo proprio a dire che è necessario continuare è necessario continuare aprendo alla collaborazione con chi vuole e sa che il tema è importante quindi l'ISTAT ma non solo vabbè poi non so che cosa hai detto ma sicuramente tutte cose giuste direi che senza esitazione passiamo alla fase successiva la famosa scuola di Atene chi si vuole fermare si ferma diamo la parola ai ragazzi per un spirito di cortesia perché l'abbiamo bloccato prima diamo la parola per prima a Luigi Frassi che ci racconta dell'esperienza talete buongiorno io sono Luigi Frassi faccio parte della classe Target che ha appunto collaborato con l'ISTAT in questo progetto chiamato Statistica e Cittadinanza la mia class è stata ampiamente coinvolta nel raccoglimento dei dati e nella presentazione alla scuola del progetto e abbiamo proposto ai ragazzi agli studenti un questionario digitale suddiviso in tre sezioni la prima sezione riguarda i dati anagrafici infatti veniva chiesto al rispondente sesso età e la percezione dell'alcol come rischio per la salute nella seconda sezione veniva appunto chiesta la percezione del consumo quotidiano dell'alcol diviso in tre fasce d'età mentre nella terza sezione veniva sempre chiesta la percezione del consumo dell'alcol nel tempo libero io presenterò i primi dati ci saranno due dati uno etichettato come statistica ufficiale cioè che appunto fanno parte della statistica ufficiale i quali risultati sono stati pubblicati sul web a metà maggio mentre i secondi sono etichettati come percezione cioè sono i dati raccolti altavete qua abbiamo il terzo quesito del questionario cioè bere alcolici è un comportamento rischioso per la salute e per la salute dei tuoi cotani abbiamo tre opzioni la prima è sì la seconda no se il consumo è moderato e la terza è no possiamo vedere come c'è una percezione diversa tra maschi e femmine infatti le femmine lo trovano il consumo dell'alcol più rischioso rispetto ai maschi e il 61,1% delle femmine non lo ritiene rischioso se il consumo è moderato mentre il 67% dei maschi non lo ritiene rischioso se il consumo è moderato con un totale del 64,9% di studenti che non lo ritiene rischioso se il consumo è moderato poi qua possiamo vedere come il ministero della salute ha fornito dei dati con cui si può capire come per i minorenni dovrebbe essere evitato il consumo di alcol perché danneggia la loro salute mentre per i maggiorenni ci sono delle quantità prestabilite qua possiamo vedere altri tre quesiti e si chiede la percezione del consumo di alcol quotidianamente suddivisa in tre facce ed è 11-15 anni 16-17 anni e 18-19 anni possiamo vedere come in generale ci sia una sovrastima del fenomeno infatti nella fascia 11-15 anni il 90,2% dei rispondenti ha sovrastimato il fenomeno visto che la media si ha secondo la percezione 19,5 ragazzi nella fascia 11-15 anni ha consumato alcol tutti i giorni mentre secondo la statistica ufficiale solo 0,2 ragazzi ha consumato alcol tutti i giorni sempre nella fascia di età 16-17 anni si ha sempre il 92,7% dei rispondenti ha sovrastimato il fenomeno infatti secondo la statistica ufficiale 1,7 ragazzi ha consumato alcol tutti i giorni mentre la percezione è che 31,8 ragazzi abbia consumato alcol tutti i giorni nell'ultima fascia cioè 18-19 anni c'è sempre una sovrastima del fenomeno infatti il 91,1% dei rispondenti appunto sovrastimato questo fenomeno secondo la percezione dei ragazzi 43,1 ragazzi hanno consumato alcol tutti i giorni mentre secondo la statistica ufficiale solo 5,4 ragazzi qua abbiamo altri due quesiti del questionario e si pone questi due quesiti chiedono se c'è una differenza tra il consumo di alcol tutti i giorni tra maschi e femmine secondo la percezione dei ragazzi i maschi bevono di più rispetto alle femmine mentre secondo la statistica ufficiale sono le femmine a bere di più rispetto ai maschi mentre qua si è al secondo quesito mostrato in precedenza cioè quanti bicchieri bevono i ragazzi sia maschi che femmine fuori pasto i maschi hanno i studenti hanno risposto che i maschi bevono più bicchieri fuori pasto rispetto alle femmine ma ancora una volta si può osservare come nell'astasis ufficiale le femmine bevono più bicchieri fuori pasto rispetto ai maschi qua inoltre abbiamo sempre la percezione di un fenomeno cioè il binge drinking cioè bere sei o più bicchieri di alcol in una sola occasione poi qua si può notare come ci sia una sovrastima generale del fenomeno infatti nella prima fascia cioè 11-15 anni il 94,6% degli studenti ha sovrastimato il fenomeno infatti la statistica ufficiale 0,9 ragazzi hanno avuto un episodio di binge drinking sempre nella fascia 11-15 anni mentre la percezione dei ragazzi è che 22,4 ragazzi abbiano avuto un fenomeno di binge drinking nella seconda fascia cioè 16-17 anni il 93,7% dei rispondenti ha sovrastimato il fenomeno infatti i studenti ritengono che 42 ragazzi abbiano avuto almeno una volta un fenomeno di binge drinking mentre secondo la statistica ufficiale solamente il 6,9% dei ragazzi tra 16-17 anni hanno avuto una volta il fenomeno almeno una volta il fenomeno del binge drinking nell'ultima fascia cioè 18-19 anni si è sempre una sovrastima del fenomeno cioè 89,9% degli rispondenti ha sovrastimato il fenomeno infatti secondo i studenti 56,1 ragazzi ha avuto almeno una volta negli ultimi 12 mesi un fenomeno di binge drinking mentre secondo la statistica ufficiale solo 18,2 ragazzi sempre nella fascia 18-19 anni ha avuto un episodio di questo fenomeno io ho finito vi ringrazio l'attenzione e spero che questo progetto vi abbia interessato grazie e adesso mi introduco alla discussione in realtà diciamo se siete d'accordo io ripartirei un pochino da quei temi che ci eravamo dati quindi dal discorso che avevamo fatto durante la giornata della statistica e diciamo questo incontro tra Istat statistica ufficiale e i giovani che in qualche modo vengono chiamati per dare un contributo attivo da soggetti partecipanti rispetto io vi avevo lasciato una domanda che è una domanda insomma molto aperta tra quelle chiuse che noi di solito utilizziamo invece questa è particolarmente aperta a voi interessa fare un percorso di avvicinamento alla statistica adesso il collega Alessandro Valentini ci ha fatto vedere no quello che è quello che è il livello di conoscenza nell'università della statistica a voi interessa come è andata la GIS come sono andati i nostri incontri con i focus che cosa è andato bene cosa è andato male insomma raccontatecelo voi allora salve a tutti se vuoi che possiamo anche far vedere c'era la luce legna 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 si fa fighissima allora noi non parleremo di dati ovviamente perché quella è la parte finale del progetto di cui si è occupato ovviamente Istat noi per lo più volevamo raccontarvi di quella che è stata la nostra esperienza nella parte iniziale quindi proprio quella dell'elaborazione del progetto all'interno delle classi e raccontarvi anche un po' quello che sono state le nostre percezioni sicuramente la domanda del se interessa o meno l'avvicinamento alla statistica è una domanda che sinceramente prima di cominciare questo progetto non mi ero molto posta perché io sono molto lontana da questo però in realtà sì anche perché facendo questo progetto mi sono anche accorta di come i ragazzi che magari non hanno un pensiero vicino a quello che può essere il mondo della statistica nel momento in cui vengono avvicinati perché l'indagine riguarda loro e viene fatta proprio da loro sono i primi a interessarsi e incuriosirsi di questo mondo e infatti questo progetto io e Gabriele abbiamo proprio collaborato anche per pensare a come farlo questo progetto già dall'inizio è stato un progetto molto ampio è stato lasciato moltissimo spazio ai ragazzi infatti come dicevi prima tu il tema fondamentale è stato quello dell'intercultura però non è mai stato detto esplicitamente che quello era il tema proprio perché volevamo che i ragazzi ci arrivassero attraverso la diciamo il dialogo e la cosa bella è che questa libertà in cui loro hanno potuto poi decidere su quale argomento concentrarsi maggiormente relativo all'intercultura si è vista dai risultati finali dei questionari perché ogni classe di ogni scuola di ogni città poi è elaborato si è concentrato su un aspetto particolare e sono aspetti che secondo me sono fondamentali e farlo fare ai ragazzi perché sono aspetti dell'intercultura che magari non ci hanno scelto per caso questo funziona dicevo che gli argomenti che poi sono emersi relativi all'intercultura è stato interessante che siano stati i propri ragazzi ad elaborarli perché magari ci sono stati dei argomenti che ragazzi più grandi o adulti non avrebbero associato subito all'intercultura cose che sono emerse nelle classi dove siamo andati noi ma abbiamo visto poi dai questionari anche da altre classi come per esempio sono state fatte molte domande relative all'igiene oppure molte domande anche relative al tipo di abbigliamento quindi queste cose che magari per per noi o comunque per le persone più adulte non sono completamente collegabili a quello che può essere la curiosità relativa all'intercultura alle differenze fra le varie persone per i ragazzi sono fondamentali quindi quando viene fatta un'indagine su di loro è bello vedere quali sono le loro curiosità perché è anche un modo per coinvolgerli maggiormente per avvicinarli sicuramente a quello che è il mondo della statistica se le domande e gli elementi da cui partire sono relativi alla loro quotidianità e al loro interesse delle scuole medie Noi abbiamo partecipato in quanto abbiamo fatto il servizio civile ad Unicef e facciamo parte anche di Unicef e quindi abbiamo collaborato con Unicef come facilitatori all'interno delle scuole Poi si potrebbe anche parlare comunque delle altre attività fatte sempre in collaborazione con l'Istat abbiamo fatto anche attività appunto come abbiamo chiamato prima di focus anche al di fuori dalle scuole che principalmente in cui sono stato presente anch'io perché purtroppo a causa di problemi interni al comitato di Cagliari ci sono stati vari problemi ma non sto qui ad approfondire quindi andare comunque ad approfondire il progetto di Istat a Cagliari è stato un problema ma ne parleremo magari un'altra volta parlando invece del progetto che si è fatto appunto nel chiamiamolo quartiere generale di Unicef Italia appunto a Roma dove si è principalmente parlato di social media di come venivano usati dai giovani social media appunto i massimi utilizzatori di social come Facebook Instagram e quant'altro vedi anche Whatsapp sono appunto i giovani quindi ho apprezzato proprio in maniera soggettiva appunto chiedere da parte il fatto che Istat stia proprio andando a chiedere ai giovani come agire in determinate cose il fatto che dei questionari appunto indirizzati verso i giovani non possono comunque essere fatti sempre da adulti chi capisce il mondo dei giovani alla fine è un giovane se non un giovanissimo un adulto sicuramente aveva una cultura molto più ampia molto più grande di un qualsiasi comunque ragazzo elementare medio superiori ma comunque non vive in prima persona il mondo che appunto vive un giovane quindi ho apprezzato personalmente davvero tanto quello che è stato fatto appunto quel giorno dove sono uscite comunque tantissime diversità tra di noi che appunto è la cosa forse più bella che abbiamo al mondo appunto la diversità tra di noi poi c'è gente che questa cosa della diversità la prende un po' male si dimentica che sì siamo tutti diversi ma comunque ha pari diritti ma questo è un argomento a parte vediamo e niente per il resto le attività sono state fantastiche spero in futuro ma forse speriamo in futuro di farne anche altre davvero non vediamo ancora quindi dell'interesse allora dalla nostra esperienza come ha detto prima Claudia se la statistica riguarda gli aspetti sinceri come siete sempre sinceri per una tavola no no infatti secondo me se riguarda aspetti che i ragazzi sentono vicini a loro se sono dati che riguardano direttamente la loro vita sono abbastanza interessati mentre su altri dati un po' più distanti dal loro sentire non mi sembra che siano molto molto ricettivi diciamo però secondo me è stato un laboratorio interessante anche sulla metodologia ad esempio di creare un questionario sull'attenzione alle parole per non indirizzare la risposta è stato molto molto interessante e secondo me anche molto utile per capire l'oggettività della statistica che non è chiara secondo me ai ragazzi ma anche a me non era chiara prima di questo progetto ammetto che non era chiara manco a me comunque è un'inizio progetto mi unisco ecco comunque tornando al fatto della domanda credo sia più come se ne è già parlato in precedenza con gli altri interventi delle altre persone qui presenti sia più qualcosa di non conoscere ciò che è l'istat e ciò che fa l'istat perché io stesso non sapevo cosa facesse l'istat fino a quando abbiamo appunto collaborato attraverso Unicef da quel momento in poi comunque sì devo dire che mi sono interessato molto di più perché sapevo appunto di che cosa trattasse che cosa facesse appunto Unicef gli stati scusi quindi personalmente c'è una buona base da più partire siamo interessati noi sì e gli altri che io che io che io non posso dominare di cui non ho tutti i interventi quindi la guardo un po' progettazione no in realtà dalla nostra esperienza personale questo non è emerso anzi molti molti ragazzi sono stati si sono molto interessati perché l'hanno vista soprattutto ora il progetto si svolgeva al termine di questo progetto veniva compilato un questionario stesso dai ragazzi che poi veniva mandato nelle altre scuole delle altre città per i ragazzi il fare una domanda che poi era una domanda che doveva soddisfare la propria curiosità com'è una domanda che magari potevano fare a degli amici al compagno di banco o a casa l'idea di poterla fare e di poterla distribuire in una scala molto più grande li interessava particolarmente sia nel farla e soprattutto poi nel ricevere le risposte perché era più gli dava più importanza quindi l'hanno vissuto molto positivamente poi noi nello specifico eravamo in una classe che era molto eterogenea a livello culturale e quindi questo forse li ha spinti ancora di più a incuriosirsi a partecipare attivamente anche per paragonare insomma la loro esperienza con quella degli altri per vedere a livello di dati in tutta Italia come erano viste le cose che loro stavano vivendo quindi per noi è stato positivo a livello di interesse una domanda che non c'è stata mai occasione di parlarne con i colleghi di Unicef voi avete avuto modo di vedere poi le sintesi che sono state fatte no ok quindi questo è un altro momento che dobbiamo prevedere secondo me è un altro momento che dobbiamo prevedere perché in pratica sono state fatte delle restituzioni in sede locale in alcune sedi locali sicuramente insomma a Cagliari è stata fatta è stata fatta a Palermo è stata fatta a Napoli quindi ci sono state delle sedi in cui è stata fatta una restituzione e in quei momenti credo che questa curiosità no l'abbiamo poi toccata con mano la curiosità è anche un po' il discorso che diciamo noi non abbiamo trovato almeno nelle esperienze che ho fatto io direttamente una scarsa cultura statistica al contrario insomma abbiamo trovato dei ragazzi a scuola ben informati che sapevano già usare degli strumenti ripeto scuola di Roma è il nostro caso specifico però immagino che possa essere stato anche un momento per vedere come si passa dal questionario a forme di rappresentazione che possano essere in qualche modo facilmente fruibili o comunque insomma comprensibili in maniera immediata anche a chi non è del mestiere insomma sinceramente nella scuola in cui siamo stati noi non mi sembrava che avessero molta padronanza della statica però sì anche la capacità di analizzare i dati sicuramente era un aspetto che sicuramente arricchisce sia noi che non avevo mai io almeno a me non ero mai entrato così dentro la materia ma anche ai ragazzi sicuramente arricchisce anche il curriculum dei ragazzi secondo me non penso sia un argomento trattato così approfonditamente durante la scuola media allora io nel ringraziarvi volevo ma Luigi non c'è più dove sta ciao Luigi allora no volevo sollevare fare una domanda a lui e poi su questo aprire se volete il dibattito no perché ieri nel corso di una so che dovrei stare a larga da queste cose ma ieri nel corso di una diciamo diatriba politica il presidente dell'Inps ha detto guardate c'è un problema che sottostimate il numero degli anziani e sovrastimate il numero degli stranieri i numeri giusti sono questi e citando il maestro Margherita dicendo i dati sono la cosa più testarda che ci sia nel lavoro che avete fatto voi è emerso con evidenza però questo problema del problema della percezione che noi abbiamo di alcuni fenomeni e poi di quello che ci dice la statistica ufficiale e proprio per stimolare il dibattito vorrei formulare un no non un dubbio nel vostro caso era molto chiaro cioè voi siete ragazzi tra 11 e 15 anni vi siete intervistati tra di voi e è emerso che il numero di ragazzi che bevevano quotidianamente è molto superiore a quello che testimoniano le statistiche ufficiali ma secondo te Luigi secondo lei professore secondo tutti i presenti a che cosa è legato diciamo questo errore di prospettiva è dovuto al fatto che non lo so io sono ragazzo di 11 anni io non bevo mai nessun bicchiere di vino ma parlando con gli amici ho la sensazione che tutti gli altri lo facciano oppure e quindi l'errore di percezione potrebbe essere non un errore del soggetto ma potrebbe essere dovuto al fatto della sbruffoneria per così dire degli altri ragazzi che dicono a voglia se bevo eccetera magari non so oppure oppure lo dico proprio come estrema ma lo penso neanche per un secondo ma sarebbe anche mai possibile che sono le statistiche dell'istat che sono sbagliate perché i rispondenti non sono i ragazzi stessi e qui si collega al tema del protagonismo dei ragazzi ma sono i genitori che rispondono per i ragazzi magari nel questionario eccetera cioè parliamone io penso che magari la percezione la nostra percezione che è più alta rispetto ai detti ufficiali potrebbe essere derivata o dalle tante raccomandazioni che vengono fatte dai genitori dai professori eccetera oppure anche da ci sono alcune volte sui giornali notizie che riguardano questo fenomeno che magari si sono magari ingrossano un po' questo fenomeno e ci fa dire ci fa pensare che questo fenomeno è ancora diciamo diffuso questo che hai detto è molto interessante perché vorrebbe dire che nel momento cioè lo dico veramente pensandoci che nel momento in cui tu rispondi a un questionario statistico ma non tu chiunque risponde a un questionario statistico e possibilmente non sta rispondendo soltanto per la sua esperienza personale ma in qualche modo è influenzato da quello che i media volendoli chiamare così gli hanno comunicato sul fenomeno quindi è già influenzato dalla percezione distorta del fenomeno sì perché in realtà io penso che questo senza nulla togliere al valore dell'indagine è chiaro che c'è una differenza fra una situazione nella quale io rispondo sul mio comportamento e invece un questionario nel quale io rispondo sulla mia percezione sul comportamento degli altri allora è chiaro che ci può essere in un caso una sottostima e nell'altro caso ci può essere una sovrastima magari può non essere solo questo che spiega la grande differenza però sicuramente io adesso chiedo scusa ma non so la statistica ufficiale come è stata riempita cioè se un ragazzo di 11 anni risponde a un questionario su ma tu bevi alcol e vicino c'è la madre è probabile che il fenomeno venga sottostimato insomma io parlo senza sapere come sono stati raccolti i dati insomma invece se ovviamente io sto lì a dire ma secondo te gli altri bevono figurati è un po' questo forse è un po' questo però ovviamente secondo me la validità dell'indagine è comunque ottima perché sappiamo bene che come la percezione di un fenomeno spesso e volentieri guida le nostre decisioni le nostre scelte gli adulti tanti adulti votano in base a percezioni in base a quello che sentono in base a quello che è l'opinione comune lei prima ha citato la cosa interessante che ho sentito l'abbiamo sentita tutti al telegiornale noi se andiamo a chiedere quanti sono gli immigrati in Italia è possibile che venga fuori che sono miliardi che sono più degli italiani stessi invece sappiamo che non è vero e insomma tanta gente quando va al voto è influenzata da cose del genere quindi sicuramente ragazzi molto giovani in ragazzi molto giovani questo fenomeno può essere amplificato nonostante insomma che comincia ad esserci una certa attenzione da parte delle istituzioni insomma sul fenomeno che è un fenomeno che insomma la mia modesta esperienza di persone che operano con i ragazzi il fenomeno dell'alcol comunque ha una certa rilevanza c'è là insomma c'è poco da fare va di moda e lo fanno ed è pericoloso perché tanti ci si fanno del male insomma infatti su questo non ci piove e sono perfettamente d'accordo do tre risposte poi forse mi sto zitto non dico per sempre ma per cinque non ci credo allora la prima risposta è un po' tecnica e magari se c'è qualcuno qui che fa indagini sul campo io non le faccio in realtà non è il problema della madre vicino o della non madre vicino in realtà il problema è quello che in termine tecnico si chiama dei proxy cioè se nel momento dell'intervista soprattutto sull'intervista a Cati cioè assistita da computer per telefono non risponde la persona che è stata campionata per così dire e ne risponde un'altra la risposta del proxy viene considerata valida perché si suppone che sappia di cosa sta parlando allora questa sulla situazione di occupato o disoccupato probabilmente non crea problemi ci sono altre indagini su cui il ricorso ai proxy può essere un pochino più problematico questa è la risposta che so io poi magari c'è qualcuno di me che sta sul campo e ne sa di più la seconda cosa che volevo ricordare era questa che qualche anno fa adesso non mi ricordo più se nel 2015 o nel 2016 Ipsos Mori che è la casa madre da cui dipende anche la nostra Ipsos quella di Pagnoncelli fece in una serie di paesi a scala mondiale un sondaggio in realtà perché non è un'indagine statistica rispetto ai nostri numeri piccola diciamo di qualche migliaio di rispondenti in ogni paese in cui chiedeva proprio questo qual era la percezione del tasso di disoccupazione giovanile della percentuale di stranieri e cose di questo genere bene purtroppo devo dire purtroppo l'Italia stava in testa alle classifiche cioè eravamo tra i paesi che hanno una percezione più distorta no del del fatto statico terza e ultima considerazione il presidente della Royal Statistical Society va in giro a dire per il mondo da circa un anno che e l'ha citato anche il nostro presidente nell'intervento di apertura di ieri che il problema vero il problema vero non sono tanto le fake news perché le fake news possono essere smentite abbastanza agevolmente c'è chi di mestiere fa il il fact checker no e ti dice no sulla voce per quello Boeri sta come il fumo negli occhi ormai la voce ha una rubrica settimanale una newsletter che fa fact checking è vero che si può cancellare la fornera e fare quota 100 a parità di conti no loro vanno un po' di conti e dicono no costa 14 miliardi ok il fact checking per chi se lo va a leggere permette di smentire la falsa notizia molto peggio dice lui è molto più insidiosa è la distorsione della notizia la distorsione della notizia quindi dell'evidenza statistica diciamo così la distorsione dell'evidenza statistica avviene in genere esagerando portando l'attenzione lui stesso faceva un esempio di questo tipo lui ha lavorato anche nel privato Spiegelalter dico e da anni fa una pubblicazione della Welcome che è una casa farmaceutica che si occupa anche di diciamo così medicinali e presidi medico-chirurgici che hanno attinenti alla sessualità sto parlando da fascia protetta diciamo così allora da questo rapporto Welcome risultava che da anni lo fanno risultava che le coppie sposate dell'amor di Dio inglesi facevano l'amore nel 1990 mediamente cinque volte al mese nel 2000 quattro volte al mese nel 2010 insomma diciamo nell'ultima edizione dell'indagine tre volte al mese da questo sono uscite due conclusioni fondamentali la prima nel 2030 le coppie inglesi non faranno più sesso la seconda chiesto al naturalmente lui faceva vedere tutta la gradazione dal Guardian fino ad arrivare al Sun no cioè tutta la scala dei giornali inglesi via via più tabloid diciamo così e poi gli hanno chiesto ma professor Spiegelhalter ma lei come se lo spiega al fenomeno se non ho evidenza statistica per dirlo però forse l'unica considerazione che posso fare è quella che poiché la fascia oraria di maggiore frequenza dell'attività sessuale è tra le dieci di sera e mezzanotte il fatto che siano aumentati i canali di intrattenimento tipo Netflix eccetera eccetera può darsi che la gente guardi di più il giorno dopo Spiegelhalter due punti Game of Thrones uccide la sessualità degli inglesi questo è vero ed è uno dei motivi per i quali i ragazzi diciamo non non si avvicinano alla statistica perché hanno una forte diffidenza anche associano spesso e volentieri i numeri le percentuali li associano alle bufale o alla politica e quindi non ne hanno molta fiducia e le considerano come qualche cosa che può essere manipolato e che tanto ognuno dice quello che pensa molto spesso i ragazzi non sanno che l'Istat è un organismo indipendente questo non lo sanno neanche gli adulti secondo me molti pensano che l'Istat sia un organismo legato al governo e quindi ovviamente con la sfiducia che c'è a torto a ragione nei confronti della politica questo secondo me coinvolge molto la statistica naturalmente noi sappiamo che non è così però di fatto nella percezione di molte persone c'è questo e immagino soprattutto dei ragazzi piccolissimo contributo sulla bontà delle statistiche in Stato le quali io chiaramente credo ciecamente il questionario con il quale criticamente il questionario con il quale viene raccolta questa informazione sul consumo di alcol è il cosiddetto questionario verde associato all'indagine multiscopo aspetti della vita quotidiana che è un questionario che va per autocompilazione ora in questa autocompilazione si intende che siano capaci di rispondere autonomamente e debbano farlo magari con la presenza del rilevatore in casa che si assicuri di prendere e chiudere il questionario del minorenne senza che passi per le mani dei genitori per alcuni questi sensibili già a partire dagli 11 anni ecco a proposito dell'effetto del modo di raccolta dati sulla attendibilità e l'accuratezza dei dati in effetti un effetto c'è questo non lo dobbiamo negare il cosiddetto mode effect è una cosa studiata studiata dagli statistici e ricondotta diciamo a dei margini d'errore accettabili perché bisognerebbe anche rendersi conto che Pitagora l'inventore della tavola pitagorica era un filosofo se non mi ricordo male noi abbiamo nell'immaginario collettivo associato al numero l'attributo oggettivo cioè un numero è oggettivo un discorso va a volte sì a volte no attenzione i dati sono il risultato di un processo di produzione che ha delle regole condivise scientificamente provate e accettate a parità di processo di produzione o con processi di produzione confrontabili si ottengono dati numeri che possano essere comparati e fanno dire che io sono più vecchia di Luigi forse meno o meno età di Giovanni parliamo di una cosa che veicoliamo tutti i giorni cioè il conto della nostra età anche quello se si vuole ci si può mettere qui e in dieci minuti ci si rende conto che nessuno ha l'età che pensa ad avere perché bisogna vedere come la misuriamo bisogna vedere come si contano gli anni si contano gli anni si contano i mesi i giorni i secondi siamo certi che effettivamente siamo nati il giorno in cui siamo nati sì perché c'è il certificato di nasce e se non ci fosse e nei posti dove non c'è non c'è e allora come si fa a dire che la nostra è una popolazione mediamente più vecchia ad un'altra popolazione attenzione perché se si persegue se si comincia a partire per la tangente poi si perde la strada per tornare a casa noi siamo qui a parlare della statistica dei metodi statistici e dei dati statistici e anche a dire che vogliamo lavorare perché quello che io ho detto ora è che voi avete detto sì 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 diventi patrimonio comune perché io quando acquisto un'automobile non mi scandalizzo se mi dicono guarda il cambio è in garanzia se ti si rompe da qui ai prossimi sei mesi allora te torna indietro e noi l'automobile ti si cambia no ti si cambia al cambio scusate il pasticcio di parole guardate che la stessa cosa vale per qualsiasi prodotto sia prodotto dopo una serie di passi dopo un processo di produzione vale anche per i dati diciamocelo perché così è e la professionalità la specificità del mestiere dello statistico che poi può essere lo statistico che è coinvolto nella produzione sul campo è coinvolto nella progettazione concettuale dei dati è coinvolto nell'analisi dei dati con i metodi la specificità dello statistico sta proprio nella sua capacità professionale di gestire tutte queste cose e di gestirle secondo uno standard scientifico condiviso appunto fa lo stesso mestiere che fa il sociologo che fa l'economista che fa qualunque altro professionista il punto è che questa professionalità ai noi non è poi così riconoscibile e riconosciuta e allora tutti si improvvisano produttori di dati statistici e allora poi da lì in poi o interpreti autentici o poi l'indipendenza dell'istituto caspita questa andrebbe insegnata alle elementari è perché è una cosa attenzione noi abbiamo una costituzione un sistema istituzionale forse ecco bisognerebbe ricominciare dal chiamarle cose con il loro nome e dare valore anche alle istituzioni perché se l'istat non fosse indipendente ditemi voi ognuno si rappresenta al mondo che vuole io da chi fa analisi ricerche di mercato ho imparato insegnando statistica nei corsi di marketing ricerche di nei corsi di laurea di marketing ricerche di mercato ho imparato che chi fa la raccolta data e l'analisi non prende mai le decisioni nelle aziende sono da un certo punto di vista molto seri perché ci mettono soldi e quindi te producimi l'evidenza e poi io l'analizzo prendo la decisione però in maniera tra virgolette indipendente collaborativa tutto quello si vuole però indipendente e io che prendo le decisioni so valutare che tipo di dati te mi produce se mi stai raccontando delle bufale oppure no perché conosco il processo di produzione anche se non l'ho fatto io quel dato non l'ho generato io sono capace di esaminare criticamente i passi e dire sì mi fido se lo compro non mi fido con questa indagine di mercato di antella per te ok scusatemi ma io ma caloro ecco il mio credere ciecamente è dovuto al fatto che io sono dipendente dell'istat e da l'istat prendo il mio sostentamento criticamente è chiaro io volevo fare insomma me volevo prendere una piccola botticina d'orgoglio i dati che ha presentato prima il professore ci dicono che la conoscenza della statistica diciamo è correlata positivamente con i voti che noi diamo a scuola e quindi insomma vedo che li valutiamo bene pare che diamo i voti migliori a quelli che sono più bravi sembra che sia vero insomma perché spesso e volentieri ci sentiamo dire che diamo i voti in modo strano che non andiamo a valutare correttamente i ragazzi o che valutiamo altre cose o che insomma o di tutto e di più si sente invece insomma una piccolissima soddisfazione grazie insomma ce la siamo presa scusate io chiudo parentesi eh Luigi prima che farà la scelta universitaria ce ne vuole perché fa il secondo anno senza altro senza altro io ero il suo professore di fisica però vabbè per questa questa volta l'ho graziato insomma diciamo allora abbiamo finito grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi